in questa lezione vedremo come poter cambiare la velocità delle nostre clip alcuni parametri già li abbiamo visti nelle lezioni precedenti ma adesso vedremo esattamente quali sono i metodi per poter cambiare la durata e la velocità delle nostre clip esistono essenzialmente due metodologie diverse andiamo a vederle entrambe allora la prima è quella di poter variare la durata di una clip all'interno del pannello della velocità e della durata questo pannello noi già l'abbiamo visto in una delle lezioni precedenti ma andiamo a vederlo con più precisione per cambiare la durata della nostra clip noi possiamo cliccare con il tasso destro sulla nostra clip scegliere il pannello velocità e durata e poter cambiare la percentuale di velocità quindi noi siamo in questo momento al 100% quindi va in tempo reale così come è stata registrata la clip possiamo rallentare se scendiamo con il numero della percentuale la clip verrà rallentata se invece saliamo la clip verrà velocizzata ad esempio al 50% il tempo della clip sarà raddoppiato questo lo vediamo anche da quest'altro parametro che lavora insieme ed è collegato tramite questo pulsantino al parametro della percentuale prima la nostra clip era di 12 secondi e 12 fotogrammi se la rallentiamo del 50% sarà di 24 secondi e 24 fotogrammi noi possiamo tranquillamente lavorare invece che sulla percentuale sulla durata effettiva ad esempio se la vogliamo di 20 secondi precisi possiamo andare a mettere 20 secondi e 0 fotogrammi così facendo la clip ci sarà rallentata del 62,4% adesso abbiamo altre tre opzioni da poter selezionare ad esempio la prima e la velocità indietro ossia la clip verrà mandata al tempo al contrario quindi praticamente come se noi la riproduciamo inversamente mantieni tono audio naturalmente quando andiamo a effettuare questa operazione noi andiamo a effettuare la stessa operazione di rallentamento o velocità anche sulla parte audio e non soltanto sul video dell'immagine mantenere il tono audio significa mantenere il tono costante dell'audio quindi se noi lo selezioniamo l'audio verrà rielaborato per mantenere il tono costante montaggio con scarto o spostamento clip finali sono le stesse medesime opzioni che vedevamo all'interno del nostro monitor sorgente con l'inserimento sovrascrizione ossia nel momento in cui andiamo a rallentare una clip è naturale che la nostra clip durerà di più anche all'interno dello spazio della nostra timeline quindi se la nostra clip è inserita tra altre clip all'interno della timeline selezionando questa opzione verranno spostate tutte le clip che ci sono dopo mentre se la lasciamo disattivata il rallentamento avrà come durata la durata effettiva della nostra clip ossia se la nostra clip ha una clip subito dopo al secondo numero 5 quindi la nostra clip dura 5 secondi e la andiamo a rallentare del 50% invece di durare 10 secondi ne durerà comunque 5 ma è rallentata del doppio se noi clicchiamo ok una volta è fatta l'elaborazione noi avremo la nostra clip rallentata al 50% questo è il primo metodo naturalmente possiamo giocare con il rallentamento e velocizzazione di una clip ad esempio se vogliamo che parta normalmente poi arrivato in questo punto vogliamo che rallenti e poi torni normale possiamo andare a utilizzare lo strumento lametta per poter tagliare in questo punto in cui dovrà diventare più lenta la nostra clip e riprendere in quest'altro punto qui naturalmente adesso siamo al 100% quindi se noi andiamo in play vogliamo che in questo punto diventi più lento quindi possiamo andare a selezionare la nostra clip tasto destro velocità durata vogliamo che raddoppi modifichiamo la velocità del 50% adesso se io clicco ok senza spuntare questa opzione la lunghezza della clip in timeline rimarrà invariata ma verrà rallentato il suo contenuto del 50% ve lo mostro clicco ok la velocità è cambiata e lo possiamo notare in questo punto rallenta ma quando arriverà alla fine della nostra clip ci sarà un salto temporale perché parte della nostra clip sarà cancellata perché non rientrava in questo spazio se io invece seleziono la velocità del 50% e questa opzione montaggio con scarto e clicco ok la mia clip mi sarà allungata e sposterà quella subito dopo così da ottenere questo tipo di effetto rallenta in questo punto arriviamo qui e ricomincia ad andare più veloce naturalmente l'effetto è un po' macchinoso perché in un sol taglio la nostra velocità cambia e varia quindi non c'è una velocizzazione o un rallentamento fluido e naturale no c'è un taglio in cui prima la nostra clip va lenta e poi subito dopo va veloce ma con il secondo metodo possiamo ovviare a questa problematica da dire in questa condizione noi possiamo quando andiamo a rallentare una clip l'effetto sarà applicato anche alla traccia audio d'accordo? in questo caso sentite in questo caso l'audio è rallentato al 50% ma con la seconda tipologia per poter rallentare la nostra clip ha effetto soltanto sulla parte video e non sulla parte audio cosa significa? quello che andremo a fare adesso il secondo strumento per poter rallentare una clip sulla nostra timeline avrà effetto solo sulla traccia video e non sulla traccia audio quindi per prima cosa dobbiamo andare a scollegare quelle che sono la traccia video e la traccia audio come possiamo fare? cliccando con il tasto destro e cliccare sull'opzione scollega in questo modo noi lavoreremo sulla traccia video e sulla traccia audio separatamente in due modi diversi clicchiamo sulla nostra clip video e scegliamo il punto in cui noi vogliamo che la clip rallenti dobbiamo andare a lavorare su un effetto che è già presente all'interno degli effetti di base nel pannello di controllo effetti di Premiere ed è l'opzione modifica tempo in inglese il remapping del tempo come vediamo qua c'è la possibilità di abilitare o disabilitare dei keyframe ma null'altro noi non possiamo modificare nessun valore ad esempio come vedete il valore è 100% non possiamo modificarlo vediamo quindi come si opera mettiamo un pochino sulla nostra clip abbiamo detto che noi vogliamo che in questo punto la clip rallenti possiamo andare ad aggiungere un keyframe e in questo punto preciso della nostra timeline possiamo andare ad aggiungere un keyframe come vedete il pannello controllo effetti si divide in due parti uno sostanzialmente per tutti i controlli di parametri l'altro invece comporta una timeline solo della clip che noi stiamo visualizzando quindi in questo momento io mi sto spostando nel tempo soltanto lungo la nostra clip e se arrivo a fine di questa timeline su quest'altra arriverò a fine della mia clip possiamo aggiungere in questo preciso punto un keyframe o un fotogramma chiave come vedete il fotogramma chiave che si è creato è differente dagli altri che abbiamo visto ossia non è un piccolo rombo con un parametro ma è un fotogramma un po' particolare che ne contiene due vedremo fra poco di cosa stiamo parlando allora dobbiamo andare ad aprire la tendina grazie a questa freccetta che c'è qui a fianco e ci comparirà una linea questa linea sta ad indicare il tempo e la velocità della nostra clip allora fino a questo punto noi vogliamo che sia di velocità 100% da questo punto in poi noi vogliamo che cambia e quindi scenda al 50% possiamo posizionare il nostro cursore sulla parte sulla seconda parte della clip e possiamo andare ad abbassare questa linea e come vedete sulla sinistra si modificherà anche la velocità della nostra clip siamo arrivati al 50% quindi se noi adesso come vedete in timeline si è allungata la nostra clip questo perché noi realmente abbiamo rallentato una porzione della nostra clip se io vado in questo preciso punto questo è il punto in cui abbiamo rallentato vado prima clicco play in questo punto si rallenta ed abbiamo ottenuto lo stesso tipo di effetto che potevamo vedere precedentemente con il pannello di velocità durata della clip la stessa medesima cosa ma con una funzione un po' più particolare nel senso che in questo caso possiamo andare ad ammorbidire il passaggio da una velocità all'altra come modificando questo piccolo keyframe come vedete è composto da due parti quella di sinistra e quella di destra se noi andiamo a spostare una delle due parti quindi si creerà una curva più morbida quindi discendente in questo caso che porterà una transizione più omogenea della velocità della nostra clip facciamo una prova andiamo a cliccare play come vedete la velocità è diminuita ma in modo molto più morbido quindi non è uno stacco netto da una velocità all'altra un'altra opzione che possiamo attivare zoomando sulla nostra timeline è quello di abilitare le nostre curve che abbiamo inserito all'interno del nostro pannello di controllo effetti sulla nostra clip per poterle vedere anche in timeline come è possibile farlo cliccando con il tasto adesso sulla nostra clip andare sull'opzione mostra fotogrammi chiavi della clip scegliere modifica tempo velocità così facendo noi possiamo vedere sulla nostra timeline quello che stiamo facendo ossia lo spostamento e la velocità delle nostre clip come vedete questa è la transizione che abbiamo fatto possiamo andare tranquillamente a modificarne la durata e queste modifiche che facciamo saranno apportate anche nel nostro pannello di controllo effetti quando andiamo a cliccare su uno dei due keyframe della nostra curva vediamo che si attiva questa linea blu questa linea blu con due palline che sono due maniglie con queste due maniglie noi possiamo andare ad ammorbidire ancora di più la nostra curva come facciamo una cosa zoom un pochino all'interno della nostra timeline così posso mostrarvelo se io vado se io vado a modificare e a girare spostare queste maniglie come vedete la nostra curva cambia creando ancora di più una curva piuttosto che una discesa netta questo serve per ammorbidire ancora di più la transizione tra una velocità e l'altra ma diciamo che una volta passato il nostro personaggio noi vogliamo tornare ad una velocità naturale quindi ci posizioniamo su questo punto qui della nostra timeline perché è qui che vogliamo che ritorni l'audio ad essere normale e possiamo andare ad aggiungere un altro keyframe cosa che possiamo fare sia stando sulla timeline del nostro pannello controllo effetti sia stando sulla nostra timeline della sequenza da qui possiamo farlo cliccando su questo pulsantino qui che è il pulsantino per aggiungere il keyframe da qui invece possiamo farlo sulla nostra traccia cioè questo pulsantino che è lo stesso medesimo quindi possiamo cliccare qui e avremo aggiunto di nuovo un altro keyframe con inizio e fine per le nostre transizioni di velocità possiamo spostarci quindi subito dopo ed andare a riportare in alto al 100% la velocità della nostra clip fatto ciò naturalmente la nostra clip si è di nuovo accorciata perché abbiamo riportato la velocità a quella precedente possiamo andare a modificare la curva con cui verrà rivelocizzata la nostra clip naturalmente si è allungata di nuovo perché abbiamo allungato questa porzione qui così facendo abbiamo ottenuto abbiamo lavorato sul tempo della nostra clip in modo molto più agevole ed ottenendo delle transizioni tra una velocità ed un'altra ma come detto in precedenza queste opzioni non hanno effetto sull'audio anche perché noi in questo momento all'inizio della lezione abbiamo disancorato la parte video dalla parte audio se invece noi avessimo lasciato le due clip ancorate tutte le ripercussioni del nostro effetto di modifica del tempo sarebbero rimaste soltanto sulla parte video mentre la parte audio sarebbe rimasta in questa stessa posizione così com'è per andare ad ovviare a questo problema dobbiamo lavorare anche un po' sull'audio cosa significa? dobbiamo trovarci i punti esatti dove vogliamo andare a tagliare la nostra clip audio quindi diciamo che fino a questo punto qui la manterremo alla velocità del 100% spostiamo la clip alla fine della nostra clip video andiamo a tagliare questa porzione in questo preciso punto e dovremo ottenuto l'audio che praticamente è rallentato all'interno della nostra clip perché questa parte qui viaggia al 100% di velocità dell'audio come la parte finale della nostra clip video stessa cosa per la parte iniziale quindi questa clip audio qui viaggia al 100% come la prima parte della clip video adesso come facciamo adesso ad andare a rallentare questa clip audio per farla combaciare con le altre due beh ci sono due opzioni che possiamo utilizzare la prima è quella di utilizzare il nostro pannello di velocità durata della clip che è possibile richiamarlo cliccando con il tasto destro sulla nostra clip è andando è andando nel pannello velocità durata se sappiamo quanto dura questa porzione della nostra clip possiamo andare ad inserire la durata effettiva cosa che possiamo fare tranquillamente andando a selezionare l'in della nostra sequenza e l'out una volta selezionati l'in e l'out sulla nostra timeline qui nell'angolo in basso destra del monitor programma ci sarà data la durata effettiva di questa porzione di timeline che è 4 secondi e 08 quindi se noi andiamo nel pannello velocità durata possiamo selezionare scrivere qui 4 e 08 ma deselezionando l'opzione di montaggio con scarto perché altrimenti ci sposterà tutto quello che c'è dopo la fine della clip ce la sposterà più avanti facciamo ok così facendo lui avrà calcolato la percentuale della dilatazione che in questo caso è del 49,7% non è del 50 preciso perché noi abbiamo creato delle discese morbide nelle curve della velocità per questo non sarà mai precisamente al 50% questa clip abbiamo però riempito il vuoto audio rallentando la parte solo centrale possiamo disattivare anche l'in e l'out e come possiamo vedere la clip audio segue il video un'altra opzione che possiamo utilizzare oltre a dover fare il calcolo della durata di questa porzione di timeline è quella di utilizzare lo strumento di lata frequenza cliccando utilizzando lo strumento di lata frequenza cliccando su uno dei lati quindi uno dei due tagli della nostra clip possiamo andare a velocizzarla o a rallentarla in questo caso a rallentarla quindi basterà trascinare la nostra clip fino allo snap della clip successiva e così facendo noi abbiamo rallentato la nostra clip andiamo a controllare la percentuale del 49,53% quindi siamo ancora molto più precisi nello spostamento e abbiamo ottenuto la nostra clip audio in sync rallentata naturalmente in sync con la parte video in questa lezione andiamo a vedere come cominciare a montare utilizzando una base musicale ebbene questo più che strumenti di premier cominciamo a vedere quelle che sono le tecniche di montaggio partiamo dalle basi abbiamo in timeline una traccia audio e delle clip video quello che vogliamo fare è far andare a tempo di musica le nostre clip audio vi faccio ascoltare la traccia musicale la traccia musicale come vedete è abbastanza delle battute abbastanza evidenti questo significa che noi possiamo tranquillamente giocare tantissimo con questi effetti sonori cosa significa montare a tempo di musica? allora il concetto è molto semplice prendo una clip un pochino più lunga faccio in modo di posizionare l'inizio della mia clip in corrispondenza dei picchi d'onda musicali questi picchi d'onda normalmente sono dette battute ossia un punto della musica più forte più riconoscibile dall'orecchio ad esempio può essere un colpo di batteria può essere un picco che un cantante mette all'interno di una canzone quindi un punto alto in ogni caso quando si impara a leggere un tracciato d'onda musicale si riconosceranno subito quelle che sono le battute i picchi musicali è facile riconoscere ad esempio questo è il primo secondo terzo quarto quinto allora qui per esempio è importante imparare a guardare questo è un altro punto ancora e così facendo in questa canzone abbiamo tantissime battute quindi tantissimo materiale per far andare a tempo le nostre clip video come possiamo fare uno stile semplice per cominciare a montare questo a battuta potrebbe essere mettere l'inizio della clip in corrispondenza di un picco audio andare sul prossimo picco audio selezionerò la lametta tagliare ed utilizzare montaggio con scarto andiamo un pochino avanti abbiamo ottenuto un taglio audio su un picco musicale possiamo ancora continuare fare ancora così utilizzando montaggio con scarto creeremo uno sbalzo temporale a livello del picco musicale e qui possiamo cominciare a miscelare le tecniche quindi ad esempio in quest'altro punto qui possiamo scegliere di velocizzare quello che c'è all'interno della nostra clip quindi posso prendere una bella porzione della mia clip fino a che non torna a fuoco ed utilizzare lo strumento dilatazione frequenza che sarebbe questo così facendo questa porzione di clip io vado a velocizzarla ok invece di attaccare la stessa clip quindi il passaggio successivo della stessa clip andiamo ad agganciarne un'altra diversa d'accordo? vedete come l'effetto che si ottiene è davvero interessante immaginate questa tipologia di tecnica applicata ad un video molto più grande ad esempio può essere un videoclip musicale che potete montare per un cantante ci saranno di sicuro delle parti dove se il cantante non canta ma la musica ha un ritmo potete montare le immagini a ritmo di musica questa è una metodologia di montaggio naturalmente non è una regola che si applica sempre in ogni caso ma tutto dipende dal materiale che state utilizzando dallo stile del video che volete da quello che volete comunicare con il vostro video e dal tipo di canzone ad esempio se fosse stata una canzone molto più lenta questo tipo di montaggio forse non sarebbe stato adatto questo montaggio è adatto con canzoni molto veloci con video che devono esprimere gioia che devono esprimere velocità ad esempio se in questo caso avevamo dei giocatori che giocavano a calcio o a qualsiasi altro sport sarebbe stato perfetto perché si possono creare delle azioni molto molto interessanti insomma si può fare davvero tanto con questi strumenti tutto sta sempre alla vostra immaginazione e alla vostra fantasia quello che sto facendo in questo corso per voi è insegnarvi le tecniche e delle metodologie per il resto poi la creatività dovete metterla voi potranno esserci dei casi nel quale non dovrete essere voi a montare le clip video su una colonna sonora ma ad essere il contrario ossia che una colonna sonora deve adattarsi a quello che voi avete montato in questo caso ho fatto un veloce montaggio di questo materiale che dura che dura circa 21 secondi 22 secondi ma io ho una traccia audio molto più lunga che dura 1 minuto e 54 secondi adesso quello che vorremmo fare è adattare la nostra clip audio quindi la nostra musica al nostro montato una volta un po' di tempo fa quando non c'era ancora Premiere CC 2015 questo processo che stiamo andando a fare adesso in automatico si faceva manualmente ossia andare a ritagliare la nostra clip audio la nostra musica per far si che coincidessero i tempi le battute ma che comunque si concludesse quanto più vicino possibile al mio montaggio quindi una canzone di 1 minuto e 50 la facevo durare l'avrei fatta durare 22 secondi tutto questo manualmente però quindi ascoltando i tempi di battuta contando le battute all'interno di una canzone quindi c'era bisogno anche di un po' di conoscenza del mondo musicale oggi invece Adobe ci è venuto incontro e grazie a un software che fa parte del pacchetto Adobe che è Audition noi possiamo tranquillamente rimiscelare la nostra traccia facendola durare più poco e sarà il software a fare i calcoli per noi a analizzare la traccia e a tagliarla nel giusto punto vediamo come si fa allora prima di tutto dobbiamo prendere la nostra traccia audio clicchiamo con il tasto destro e fare modifica clip in Adobe Audition fatto ciò Premiere renderizzerà una copia della nostra clip che abbiamo in timeline e la aprirà nel software Adobe Audition che vi ripeto fa parte del pacchetto Adobe Creative Cloud fatto ciò avremo la nostra clip aperta nel software di montaggio e possiamo andare a lavorarla per renderla più breve allora per prima cosa dobbiamo cliccare con il tasto destro sulla nostra traccia e fare inserisci in multitraccia e fare nuova sessione perché sto facendo questo beh è già un progetto con lo stesso nome perché Adobe Audition lavora in due modi diversi possiamo andare a modificare solo questo brano audio questa clip audio e risalvarla oppure possiamo creare un intero progetto un po' come se fosse un progetto di montaggio in Adobe Premiere quindi avendo più tracce audio e lavorare singolarmente su quelle tracce audio per poterle miscelare insieme nel miglior modo possibile facendo il mixing quindi dell'audio con un software esterno molto più performante rispetto a Premiere perché questo è un software che nasce con questa funzione torniamo al al nostro remix della nostra traccia audio una volta inserito in un progetto in multitraccia quindi dove ci saranno più tracce e noi avremo la nostra clip su una di queste tracce possiamo selezionare la nostra clip cliccare con il tasto destro andare sulla voce remix ed attivare questa voce il software farà un calcolo della canzone quel calcolo di cui vi parlavo ecco qua analizzato la canzone adesso il software sa esattamente quanti battiti ha la canzone e possiamo andare a dirgli di quanto vogliamo che la accorci noi abbiamo bisogno di una canzone che duri pressa poco 22 secondi quindi torniamo in audition posizioniamoci a 22 secondi ed è comparsa sulla nostra traccia audio queste due lineette zigrinate nell'angolino alto a destra dobbiamo andare a cliccare esattamente su questo angolino qui perché come scusatemi come vedete nel momento in cui io mi sposto leggermente in alto compare un cursore diverso vedete anche con la scritta remix accanto mentre se io scendo compare il cursore classico del software quindi andiamo a selezionare questo angolino e cominciamo a tirare la nostra clip fino al nostro cursore che è fermo a 22 secondi il software farà un'elaborazione e ci dira guarda ho realizzato un taglio in questa posizione ce lo indica anche andiamo a zoomare leggermente ha effettuato un taglio in questa posizione per far durare la nostra clip durerà di più 27 secondi questo perché ogni canzone ha una battuta musicale che va rispettata se non rispettiamo questa battuta il filo all'ascolto ci sembrerà davvero distorto ci sembrerà strano quindi il calcolo che lui va a fare dice guarda con le battute che ha questa canzone tu la vorresti super giù di questa durata io ti posso fare questo taglio qui a noi va più che bene perché così non dobbiamo rielaborare un minuto e 40 e 50 di canzone ma soltanto 27 secondi anche se tra le altre cose gli ultimi due sono di fade out quindi di dissolvenza e a noi va benissimo così una volta fatta questa operazione possiamo andare ad esportare cliccando con file esporta mix down multitracha tutta la sessione perché vogliamo che ci esporti tutta la sessione scegliamo la nostra cartella di destinazione facciamo salva diamo l'ok è esportato torniamo in premiere ed importiamo la nostra clip audio ho appena importato la nuova clip che abbiamo appena esportato da audition la metto in timeline e come vedete è molto molto più breve quindi posso eliminare quella precedente ed abbiamo così ottenuto la nostra colonna sonora ora ci toccherà semplicemente andare a rimodificare il nostro montato per permettere di terminare leggermente più in avanti questa canzone facciamo così ed abbiamo ottenuto vi faccio ascoltare il risultato qui rappresenta il taglio come vedete il taglio non si sente neanche il vostro orecchio non lo percepisce questo perché il software fa tutti i calcoli per voi veniamo ora alle transizioni che cosa sono le transizioni beh la parola stessa ci dice la transizione è il passaggio tra un'immagine e un'altra quando noi facciamo un taglio tra due clip ne otteniamo un passaggio con uno stacco tra una clip ed un'altra invece la transizione permette di creare delle transizioni più omogenee tra una clip ed un'altra ad esempio vi ho messo tre esempi di transizioni perlomeno sono quelle che utilizzo io per il resto dopo faremo una panoramica nella lezione successiva di tutte quelle che sono le transizioni presenti in premiere una panoramica molto veloce e ve le mostrerò altre come funzionano le transizioni la transizione in questo caso incrociata prenderà una porzione della prima clip ed una porzione dell'ultima clip creando una dissolvenza tra le due che cosa significa mi spiego leggermente meglio allora facciamo così copio e incollo lo stesso materiale su una traccia separata e vi mostro come funziona la dissolvenza che in questo caso parte da questo punto e finisce in questo punto significa che prenderà il materiale dalla prima clip fino a questo punto e il materiale della seconda quindi di quella successiva da quest'altro punto creando tra questa e questa una dissolvenza dissolvenza che possiamo creare anche manualmente utilizzando i keyframe quindi andando nella clip superiore cliccando sul pannello controllo effetti aprendo il pannello opacità dando un keyframe andiamo alla fine del video e poniamo il keyframe creiamo un altro keyframe a zero abbiamo ottenuto lo stesso tipo di dissolvenza naturalmente questo processo è più macchinoso rispetto a realizzarla con le dissolvenze e le transizioni che noi già abbiamo preimpostato all'interno del software infatti come si applica una dissolvenza in modo molto semplice all'interno del pannello effetti noi abbiamo delle sottocartelle e all'interno troviamo sia transizioni video che transizioni audio le cose che vi dirò per le transizioni video funzionano allo stesso identico modo con le transizioni audio quindi ad esempio dissolvenza incrociata possiamo applicarla la troviamo sotto dissolvenza troviamo dissolvenza incrociata e la possiamo trascinare sul taglio tra le due clip noi possiamo anche scegliere se applicarla solo alla clip precedente o solo alla clip successiva in questo caso noi vogliamo applicarla a tutte e due quindi la poniamo nel mezzo e lui prenderà una porzione della prima clip e una porzione della seconda clip creando questo effetto incrociando l'una all'altra ma ce ne sono altri tipi di clip vediamo come funzionano abbiamo una delle transizioni più utilizzate che è l'oscura immagine ossia la dissolvenza a nero dissolvenza a nero cosa significa che praticamente una volta applicata dissolverà l'immagine a nero e quella successiva la solverà dal nero quindi prima la prima va a nero e la seconda parte da nero è un po' come agganciare due clip una accanto all'altra e aggiungerci due dissolvenze incrociate la prima e la seconda in questo caso naturalmente andandola a piazzare nel mezzo lo premier farà tutto andiamo a vedere un'altra che è la stessa precedente soltanto che questa volta è la dissolvenza bianco quindi nel punto centrale della nostra dissolvenza della nostra transizione noi avremo un punto di bianco e poi ritornerà l'immagine successiva le operazioni che possiamo fare con queste dissolvenze una volta applicata quindi trascinata con il mouse noi possiamo tranquillamente allungare la transizione spostarla da un lato o dall'altro quindi dicendo a premier di prendere più porzioni di una clip rispetto ad un'altra ad esempio facendo in questo modo spostandola sulla sinistra premier prenderà molto più materiale da questa clip rispetto a quest'altra ve lo mostro copiando e incollando il materiale su un'altra traccia la dissolvenza funziona in questo modo qua quindi rispetto a questo punto qua che è il nostro taglio premier prenderà molto più materiale da questa clip quindi facendo partire la dissolvenza molto prima e ne prenderà poco di quella precedente quindi di questa qui questo è il funzionamento delle dissolvenze e quindi vi ripeto che si applicano molto semplicemente trascinando la dissolvenza sul punto che noi vogliamo quindi può essere un taglio tra due clip oppure può essere addirittura l'inizio di una clip se noi vogliamo che parta dal nero perché se aggiungo una dissolvenza incrociata questa parte da nero beh perché precedentemente non abbiamo nessun'altra clip come infatti se io stacco due clip e aggiungo due dissolvenze incrociate alla fine e all'inizio e le riunisco quello che otterremo è un po' l'effetto di dissolvenza a nero quindi avremo un punto al centro in cui entrambe le clip sono nere e riparte la seconda ma dato che noi abbiamo la possibilità ed è presente all'interno del nostro elenco possiamo utilizzare l'effetto oscura immagine se lo vogliamo che duri di più possiamo tranquillamente allungarlo e così facendo otterremo la nostra dissolvenza a nero se noi clicchiamo col tasto sinistro del mouse sulla nostra dissolvenza nel pannello controllo effetti ci si apriranno una serie di opzioni la prima fondamentale è quella presente nella piccola timeline all'interno del nostro pannello effetti dove noi possiamo decidere dove la transizione quanto deve spostarsi ad esempio questa lunghezza di questa transizione è la stessa di questa quindi se vado ad allungare la mia transizione a destra lui allungherà fino al punto massimo dove taglia la clip quello che noi vediamo non è il taglio della nostra clip questa parte qua questa porzione non corrisponde a questo taglio qui ma a tutta la clip senza il taglio quindi noi il software ci fermerà in questo punto perché in questo punto noi abbiamo il taglio altre opzioni che possiamo fare naturalmente spostare la nostra transizione in un punto o in un altro perché noi vedete se la spostiamo a sinistra questa si sposterà a sinistra se la spostiamo a destra si sposterà a destra ma sono stesse opzioni che possiamo fare anche in timeline altre opzioni che invece variano di effetto in effetto di transizione in transizione sono quelle del pannello delle proprietà in questo caso noi possiamo decidere se centrare la dissolvenza sul taglio all'inizio del taglio quindi da qua in poi o terminare al taglio quindi la dissolvenza termina con il taglio tra le nostre due immagini qui possiamo fare una previsualizzazione di quello che sarà l'effetto possiamo tranquillamente mostrare le due origini all'interno del nostro pannello di anteprima funziona che fondamentalmente trovo inutile perché possiamo tranquillamente mettere in play il nostro effetto e vedere quello che accadrà queste opzioni cambiano e variano di base in effetto in effetto perché ci sono delle transizioni che possiamo applicare con delle specifiche particolari ve ne faccio vedere soltanto una questo è il taglio morphing che è stato aggiunto nell'ultima versione del software che ha una funzione molto particolare quella di creare un morphing tra un'immagine e un'altra infatti come vedete viene richiesto l'analisi delle clip delle immagini cosa che fa in automatico appena viene applicato quindi attendiamo un attimo che l'analisi venga conclusa e vediamo il risultato ok la peculiarità di questo di questo tipo di transizione non è esattamente questa io infatti ho voluto mostrarvi la tipologia di opzione ma questo taglio vedremo nella lezione successiva in che caso si può utilizzare questo tipo di transizione si può utilizzare quando si fanno dei tagli all'interno di un'intervista lo sfondo rimane lo stesso e la persona anche quindi si crea un taglio di morphing tra le due immagini che non distoglie l'attenzione come un taglio normale vediamo ora a uno dei problemi che possono nascere quando si utilizzano le transizioni questo problema è molto frequente in tantissimi casi e molte persone non sanno come risolverlo vi spiego di cosa si tratta e come risolverlo ho preso due clip che hanno uno è il fine corsa ed è indicato in timeline da questo triangolino lo vedete e ho preso invece un'altra clip a inizio corsa indicato quindi da questo angolino presente anche qui inizio corsa e fine corsa significa che noi stiamo prendendo l'inizio della clip e la fine della clip registrata se noi li andiamo ad unire e applichiamo un effetto una transizione qualsiasi essa sia in questo caso prendiamo l'incrociata Premiere ci dirà che l'oggetto multimediale è insufficiente la transizione conterrà fotogrammi ripetuti che cosa significa noi dovremo per forza dare l'ok e la transizione avrà un effetto grafico particolare come vedete avrà delle linee oblique questo cosa significa come vi ho spiegato nella lezione precedente le transizioni prendono una porzione della clip precedente relativa alla lunghezza dopo il taglio ed una porzione della clip successiva sempre rispetto alla linea di taglio vedete quindi questa clip durerà fino a questo punto qua e questa fino a questo punto qua ma noi abbiamo preso due clip a fine corsa cosa significa che realmente il materiale del nostro oggetto multimediale come lo chiama Premiere termina in questo punto nel stesso modo a questa clip il materiale comincia da questo punto quindi Premiere non ha né materiale dopo di questo né materiale prima di questo allora ti dirà guarda ci sarà del contenuto ripetuto cosa significa che lui prende l'ultimo fotogramma della prima clip e lo frizza fino a che non termina la transizione stessa cosa farà con la prima clip frizzerà il primo fotogramma e lo tirerà fino a questo punto qui infatti se noi andiamo a vedere l'effetto come vedete mentre questa immagine è ancora in movimento sotto abbiamo un fotogramma fisso quando questa immagine comincia a muoversi qui si è frizzato nell'immagine precedente un fotogramma questo è l'errore che nasce più frequentemente possiamo andarlo anche a vedere cliccando due volte cliccando sulla nostra transizione andando nel controllo effetti vediamo che all'interno del nostro piccolo pannellino nella nostra piccola timeline è perfettamente indicato che la prima clip ha un fine corsa quindi il triangolino in questo punto e la clip successiva all'inizio corsa in questo punto per andare a risolvere il problema dobbiamo necessariamente eliminare delle porzioni di immagine quindi ad esempio possiamo prendere il nostro strumento di montaggio con scarto andare a trascinare la prima clip indietro fin dove comincerebbe la transizione e fare la stessa cosa con quella di dopo con la prima clip così facendo noi abbiamo ottenuto qui c'è ancora un fotogramma in meno quindi dobbiamo ancora tirare un altro pochino abbiamo ottenuto cliccando cliccando con il tasto sulla nostra transizione vediamo che la nostra transizione adesso prende perfettamente all'interno delle nostre clip quindi avrà del materiale da poter utilizzare nella prima clip e nella seconda clip quando noi andremo a mettere in play la nostra transizione sarà fluida ma nulla ci vieta nell'eventualità noi volessimo o abbiamo necessità di dover utilizzare tutta la clip nulla ci vieta di poter utilizzare questo effetto in cui viene frizzato un fotogramma e ne parte un altro è importante però conoscere qual è la problematica e perché capita questo e per qual motivo la transizione ha un disegno diverso all'interno della nostra timeline così da essere consci quando andiamo a montare sappiamo qual è il difetto come si risolve ed essere consapevole di lasciarlo oppure no facciamo ora una panoramica di tutte le migliori transizioni presenti all'interno di Premiere e vediamo tutti i parametri allora cominciamo col dire che le transizioni troviamo nel pannello effetti e abbiamo due cartelle in particolare che saranno transizioni video con delle sottocartelle per categoria e transizioni audio ma adesso andremo a vedere tutte quante cominciamo dalle transizioni più utilizzate ossia quelle di dissolvenza abbiamo la dissolvenza additiva che genera un'addizione del campo di luminosità tra le due clip come vedete si crea questa sorta di baglione nel momento della transizione questa è la peculiarità di questo di questo tipo di transizione e non ha altre opzioni all'interno andiamo a quella successiva che è quella incrociata che abbiamo visto già nelle elezioni precedenti e questa incrocia l'opacità tra due clip abbiamo poi la dissolvenza a bianco vista già insieme a quella a nero nelle elezioni precedenti questa transizione porta a un punto di bianco completo e ritorna all'altra immagine stessa cosa con quella oscura immagine in cui avremo un punto quello centrale di nero e poi ritorniamo con un'assolvenza andiamo adesso con l'effetto comparsa l'effetto comparsa praticamente taglia la clip da un lato all'altro e fa comparire quella successiva questo effetto invece ha delle opzioni lo vediamo se ci clicchiamo sopra nel pannello di controllo effetti possiamo decidere nell'angolo qui in alto a sinistra la direzione da cui deve venire la clip successiva quindi da dove deve arrivare il taglio che lo possiamo girare in tutte le direzioni e possiamo attivare anche altre opzioni come la qualità dell'anti-alias quindi il difetto che si può generare durante il taglio e il movimento se lo andiamo ad alzare questa qualità naturalmente sarà più elevata possiamo invertire la selezione delle immagini quindi non viene più da un lato ma verrà dall'altro possiamo scegliere di applicare uno spessore al nostro taglio quindi possiamo farlo anche bello grande e possiamo scegliere un colore queste le opzioni per la transizione comparsa e queste opzioni sono presenti anche in altre transizioni andiamo in quella graduale che ci genera una transizione tramite una mappa di sfumatura questa mappa che può essere personalizzata cliccando sul pannello personalizzato possiamo scegliere la morbidezza con cui viene effettuata la transizione oppure possiamo addirittura scegliere un'immagine dal nostro archivio possiamo tranquillamente crearla anche con photoshop un'immagine di grado che vada da nero a bianco andiamo avanti abbiamo l'effetto doppia porta che troviamo all'interno del menu sotto menu comparsa questo effetto taglia la clip in due parti e mostra quella inferiore naturale anche qui possiamo scegliere come per la transizione comparsa di far tagliare l'immagine da sopra sotto o destra e sinistra con le stesse opzioni per generare o meno dei bordi alla nostra transizione andiamo alla prossima abbiamo interno il nome non è proprio dei migliori ma genera questo tipo di taglio all'interno della nostra immagine e abbiamo le stesse opzioni possiamo scegliere l'angolo da cui deve partire la transizione e sempre le opzioni per creare un bordo alle nostre immagini cominciamo con le forme andiamo nella sottocartella forme geometriche la prima che ci viene fornita è il cerchio una dissolvenza in forma di cerchio qui possiamo soltanto scegliere se generare un bordo dalle nostre clip e non possiamo scegliere la direzione perché è unica possiamo andare a cambiare ce ne sono altre quelle a forma di croce quella a forma di rettangolo e quella a forma di rombo andiamo avanti nella sottocartella zoom troviamo zoom incrociato che è un effetto di transizione che genera uno zoom nell'immagine precedente arrivando in un punto massimo in cui viene agganciata quella successiva che va a zoom indietro questa transizione non ha opzioni specifiche ma può essere soltanto allungata o ristretta naturalmente durante questa transizione si perderà qualità all'interno della nostra immagine perché verrà sgranata se zoom molto andiamo avanti in quelli un po' più fantasiosi abbiamo la sottocartella sfoglia pagina e abbiamo il volta pagina che è questo genere di effetto qui qui abbiamo opzioni per scegliere l'angolo da dove deve venire il volta pagina e possiamo scegliere anche lo sfoglia pagina dove viene aggiunto un effetto simile 3D di un angolo di una pagina che gira stessa cosa qui abbiamo l'opzione per poter scegliere l'angolo o invertire l'arrivo della nostra clip andiamo avanti adesso andiamo nella sottocartella scorrimento troviamo l'effetto spinta solo il nome spiega tutto la seconda clip spingerà la prima anche qui possiamo scegliere la direzione da dove farlo arrivare e se applicare o meno un bordo alle nostre clip ancora nella stessa sottocartella abbiamo lo scorrimento la seconda clip scivolerà sulla prima anche qui possiamo scegliere da quale angolo fare arrivare la nostra clip e possiamo scegliere se applicare un taglio alla nostra un taglio un bordino alle nostre clip andiamo alla prossima sempre della categoria scorrimento divisione dal centro la prima immagine viene divisa in quattro porzioni e va nei quattro angoli qui non abbiamo altre opzioni se non aggiungere un bordino alle nostre clip andiamo alla prossima siamo sempre nello stesso sottocartella di scorrimento abbiamo divisione qui invece l'immagine viene divisa solo in due parti e abbiamo invece l'opzione qui per dividerla verso l'alto e il basso o destra e sinistra e possiamo sempre scegliere di aggiungere uno spessore alle nostre clip andiamo adesso invece nella sottocartella movimenti 3D abbiamo soltanto due transizioni la prima è quella di riflessione che fa questo effetto di dotazione della nostra clip in uno spazio tridimensionale e possiamo farla ruotare sia dall'alto verso il basso che da destra verso sinistra scegliendo poi di invertire l'angolo di rotazione se in positivo o in negativo possiamo scegliere di personalizzare creando delle bande colorate sullo sfondo e scegliere uno sfondo diverso per la nostra transizione andiamo adesso all'altra transizione della cartella movimento 3D fa si come se fosse la rotazione di un cubo come se le nostre immagini fossero proiettate su due facciate a tigo di un cubo quindi questa è la rotazione del cubo che può essere invertita si può scegliere da quale lato debba arrivare la rotazione se dall'alto verso il basso o può essere invertita e mostrata dal basso verso l'alto veniamo ora a vedere una delle transizioni più particolari quella del taglio morphing aggiunta nell'ultima versione del software questa transizione ancora deve essere implementata molto bene però vi faccio capire qual è il concetto non può essere utilizzata sempre anche perché ha bisogno di un tempo di calcolo una volta applicato infatti il software vi chiederà di attendere che lui esegua delle operazioni in background questa transizione può essere utilizzata quando abbiamo lo stesso sfondo lo stesso soggetto che sta parlando in questo caso sono io ma abbiamo un taglio ad esempio questa è un'intervista e c'è un taglio netto all'improvviso come vedete qui c'è un taglio questa transizione serve a creare un morphing tra la prima immagine e la seconda per questo ho bisogno di un tempo di calcolo io l'ho applicata allo stesso taglio e adesso vi mostro qual è il risultato come avete visto c'è una sorta di morphing vado al rallentatore tra le due immagini anche se non è nettamente corretto ad esempio anche se questa parte dello sfondo è uguale il software l'ha calcolata come immagine in movimento e quindi l'ha ricalcolato e ha applicato questo effetto morphing così un po' come a questi angoli e alla camicia possiamo provare a mettere in qualità massima abilitiamo anche la pausa in massima e vediamo invece l'effetto visto con la qualità massima purtroppo non lo vedremo mai in tempo reale però come potete vedere l'effetto di morphing viene applicato si nota tantissimo sia sul volto sia sulla camicia come vedete eccolo qui l'effetto di morphing può risultare molto utile quando si monta un'intervista dove c'è un taglio che si vuol coprire però non funziona nel 100% dei casi di sicuro sarà implementata da Adobe per diventare uno degli strumenti più interessanti di questo software veniamo ora a quelle che sono le transizioni audio abbiamo soltanto tre tipi di transizioni audio all'interno di Premiere e possiamo applicarle tutte quante in un taglio o all'inizio o alla fine di una clip vi spiego la differenza tra le tre la prima transizione si chiama potenza costante e l'effetto che fa è rappresentato dalla figura in alto qui a sinistra la clip di sinistra tenderà a salire con una curva in questo modo e quella di destra tenderà a scendere con questo con una curva in questo modo qui mentre la differenza con il guadagno costante quella successiva tenderà a salire con una linea dritta e quindi non più con una curva stesso modo quella precedente tenderà a scendere con una linea dritta e non con una curva andiamo invece a dissolvenza esponenziale qui non è rappresentata al meglio ma il concetto è molto simile a quella della potenza costante nel quale vi è una curva ma in questo caso la curva sarà esponenziale quindi invece di essere una curva parabola in questo modo la curva farà questo movimento qui quindi farà una curva molto più stretta e detta curva anche esponenziale sia per la clip che entra che per la clip che esce all'orecchio invece le dissolvenze sembrano quasi tutte le stesse ma vi assicuro che ci sono casi e casi in cui una è molto meglio dell'altra adesso naturalmente ho preso tre tagli strani di audio quindi sentirete pesantemente la transizione perché le clip non combaciano nel tempo però vi faccio ascoltare prima la potenza costante poi vi faccio ascoltare il guadagno costante ed infine la dissolvenza esponenziale l'effetto è percepibile ma vi consiglio di sperimentare su delle tracce audio i tre tipi di transizione per scegliere quelli che sono più adatti in determinate circostanze piuttosto che in altre una delle differenze sostanziali tra Adobe Premiere Pro e altri software di montaggio quale ad esempio Avid è la gestione del montaggio la nuova generazione di montatori di persone che si sono approcciate al mondo del montaggio video hanno scoperto un mondo totalmente diverso da quello che vi era in precedenza mi spiego meglio una volta e tuttora questo è il funzionamento classico di Avid con un in e con un out su una clip noi possiamo andare a scegliere un'inquadratura trascinarla in timeline e poter montare infatti in software come Avid lavorare sulla timeline quindi selezionare una clip per spostarla nello spazio o fare delle operazioni sopra è molto più macchinoso mentre per Premiere il ragionamento è totalmente al contrario Premiere lavora tantissimo ed è orientato a quello della gestione via mouse anche sulla timeline quindi il montatore su Premiere non sarà più abituato a selezionare un in on out ma addirittura può prendere tutte le clip del proprio lavoro poterle andare a scorrere ad esempio tagliare un pezzo piuttosto che un altro e cancellarne altri d'accordo così facendo poi realizzando una propria selezione e creando il proprio montaggio personalizzato è possibile sfruttare queste peculiarità di Premiere riorganizzando l'interfaccia ed utilizzare la famosa tecnica della timeline a pancake che cosa significa timeline a pancake allora innanzitutto dobbiamo avere due sequenze una dove sarà la sequenza del nostro montaggio e l'altra invece con tutti i nostri media quindi prendiamo tutte le nostre clip e le posizioniamo in una timeline così facendo che noi avremo una timeline dove poter attingere del materiale quindi da questo punto qui io copierò la clip e me la trascinerò la copierò e la incollerò all'interno della mia sequenza montato così da avere sempre tutte le clip lungo una timeline a disposizione per essere guardate tagliate copiate incollate e poi ho l'altra timeline quella del montaggio dove posso andare ad eseguire i primi tagli e quindi a realizzare un rush cut del mio lavoro ma cosa significa timeline a pancake se io seleziono la come abbiamo visto nelle lezioni riguardanti l'interfaccia di Premiere sappiamo che noi possiamo ricostruire l'interfaccia che vogliamo come la preferiamo noi quindi se io seleziono ad esempio la timeline media e la posiziono non al centro dove è attualmente ma sopra cosa succederà che io avrò a disposizione due timeline una sopra l'altra una detta media una è la quella media l'ho posizionata io superiormente e l'altra per il montaggio adesso questa struttura che ho costruito per esempio andiamo a racchiudere tutte le finestre tutte le tracce quindi facciamo riduci tutte le tracce riduci tutte le tracce andiamo a spostare un po' di finestre multimediali da un altro lato ok così facendo è ottenuto un'interfaccia detta a pancake cosa significa? Premiere attiva una serie di pannelli nel momento in cui noi ad esempio stiamo lavorando su un determinato pannello cosa significa? che se io lavoro su questo pannello media il monitor programma è riferito a quello che io sto vedendo ma se io passo con il mouse e clicco sull'altra timeline lui mi attiverà il monitor programma per quest'altra timeline così facendo con questa struttura che io ho appena generato ho due timeline sempre con me pronte quindi da un lato posso selezionare del materiale tagliarlo incollarlo nell'altra timeline senza dover switchare necessariamente tre pannelli questa è detta la tecnica pancake con cui si lavora tantissimo su Premiere quando ad esempio si ha tantissimo materiale da dover elaborare da dover guardare c'è la possibilità di averlo tutto quanto estito su una sola timeline possiamo così abilmente fare delle selezioni andare a fare dettagli di montaggio e vedo sempre tutto il nostro materiale a disposizione uno dei pannelli di cui non vi ho parlato quando abbiamo parlato dell'interfaccia di Adobe Premiere Pro è quello del controllo effetti pannello che possiamo trovare tra questi qui in cima in alto a sinistra naturalmente è possibile come tutti gli altri pannelli poterlo riposizionare dove meglio ci aggrada il pannello di controllo effetti è quello che racchiude tutti gli effetti che noi applicheremo ad ogni nostra clip come vedete non avendo selezionato nulla in timeline questo pannello di controllo effetti è vuoto o almeno non ci dà opzioni modificabili quello che noi possiamo fare è andare a selezionare una clip in timeline qualsiasi essa sia e ci si apriranno una serie di effetti all'interno della nostra clip questi qui presenti sono gli effetti di base per la nostra clip cosa significa di base sono degli effetti che noi troveremo sempre ogni volta che inseriremo una clip nella nostra timeline e la selezioneremo e sono gli effetti di movimento opacità modifica del tempo del volume del volume per canale e del panning questa serie di effetti come detto sono quelli di base perché sono quelli che si riferiscono alle operazioni più comuni che si possono effettuare su una clip timeline e quindi non c'è bisogno di andare a richiamare un effetto dal pannello degli effetti ma li abbiamo già tutti quanti qui andiamo adesso un'occhiata più ravvicinata a quelli che sono gli effetti di base che Premier applica alle nostre clip in timeline ho posizionato tre tagli della stessa clip dopo vedremo il perché cominciamo subito se io seleziono la prima clip ho la possibilità di andare nel pannello del controllo effetti e cominciare ad utilizzare gli effetti di base se clicco sulla freccettina accanto al nome movimento ci si apriranno le opzioni di movimento che sono la posizione con cui io posso modificare la posizione della mia clip nello spazio quindi posso spostarla a destra e a sinistra in alto o in basso posso andarla a scalare e in questo caso la sto scalando uniformemente cosa significa che applico la percentuale di scala sia all'altezza che alla larghezza della mia immagine se io non voglio scalare uniformemente un'immagine basta defleggare questa opzione e mi compariranno due valori la scala per l'altezza quindi io posso scalare solo in altezza e la scala per larghezza se invece voglio tornare alla funzione precedente di scala uniformemente basta riselezionare questa opzione un'altra opzione che ho è quella della rotazione per ruotare le nostre immagini qui ho un altro valore quello del punto di ancoraggio che cos'è un punto di ancoraggio questo punto di ancoraggio è un punto ben preciso dell'immagine che viene definito da software il perno su cui realizzare tutte le deformazioni mi spiego meglio di base il punto di ancoraggio è posizionato al centro della nostra immagine in questo caso non possiamo vederlo perché non c'è un riferimento grafico ma possiamo andare a selezionare l'effetto movimento quindi col mouse lo clicchiamo ci selezionerà tutto l'effetto del movimento e come vediamo nella nostra canvas nel nostro monitor program attorno all'immagine compariranno delle maniglie di selezione quelle lì per la trasformazione ed un punto al centro questo punto al centro è il nostro punto di ancoraggio il punto di ancoraggio possiamo andare a spostarlo sia con il mouse quindi cliccandoci sopra lo andiamo a spostare oppure possiamo andare a modificare i nostri valori all'interno del pannello di controllo degli effetti ma che cosa significa spostarlo col mouse e cosa significa spostarlo con i valori numerici come vedete il valore in questo momento del nostro punto di ancoraggio è 960 per 540 ossia la metà di 1920 per 1080 perché questa immagine che ho è un'immagine in full hd e quindi la metà del fotogramma è 960 per 540 pixel stesso valore mi viene dato alla posizione sì perché la posizione è sempre in riferimento ed in base al punto di ancoraggio anche se hanno gli stessi valori non sono la stessa identica cosa la posizione è la posizione dell'intera clip all'interno dello spazio il punto di ancoraggio è la posizione secondo x ed y del centro della nostra immagine come faccio quindi semplicemente a spostare il mio punto di ancoraggio tranquillamente posso andare nella sua voce andare a modificare i parametri o tranquillamente trascinare con il mouse ma come vedete nel momento in cui applico una trasformazione al punto di ancoraggio quella che si muoverà non è il punto di ancoraggio perché sarà sempre al centro ma si muoverà tutta l'immagine questo perché perché il punto di ancoraggio rimarrà nel momento in cui faremo questo tipo di trasformazione sempre nel mezzo perché è la posizione della nostra immagine se invece prendo la mia immagine e la sposto in avanti esattamente con lo stesso valore che ho dato al punto di ancoraggio avrò di nuovo la mia immagine centrata questo perché vi ripeto il punto di ancoraggio si riferisce ha uno spazio sulla nostra immagine mentre la posizione si riferisce allo spazio sul nostro progetto quindi anche se sono simili i valori sono due cose estremamente diverse vi faccio vedere un'altra cosa se io seleziono con il mouse il punto di ancoraggio posso tranquillamente spostarlo senza che l'immagine subisca variazioni questo perché sto spostando contemporaneamente sia la posizione con il punto di ancoraggio in questo caso Premier indicherà come capirà che noi stiamo spostando solo il punto di ancoraggio quindi manterrà invariata la posizione dell'immagine all'interno del nostro progetto e sposterà contemporaneamente anche il punto di ancoraggio una volta che il punto di ancoraggio è stato spostato tutte le trasformazioni che andremo ad applicare da adesso in poi saranno riferite come centro della trasformazione al nostro punto di ancoraggio quindi se andrò a ruotare la rotazione avverrà attorno a questo punto se andrò a realizzare uno scale questo avverrà partendo da quel punto d'accordo? stessa cosa se andiamo a defleggare la scala uniforme se andiamo a strecciare la nostra immagine solo in larghezza o solo in altezza avverrà sempre partendo dal nostro punto di ancoraggio che può essere continuamente spostato e ne possiamo continuare a spostarlo senza preoccuparci dei valori che vengono cambiati possiamo tranquillamente spostarlo con il mouse e quindi continuare a realizzare le nostre operazioni ultimo valore che troviamo all'interno dell'effetto movimento è quello del filtro anti sfarfallio il filtro anti sfarfallio sarebbe il filtro anti aliasing che serve ad ammorbidire le linee troppo nette all'interno della nostra immagine se fate caso al bordo della mia immagine è leggermente frastagliata se io aumento il valore ad 1 perché è possibile andare da 0 ad 1 questa verrà ammorbidità di parecchio accanto ai valori che abbiamo appena elencato troviamo anche una freccetta questa freccetta non è altro che un altro tipo di cursore per poter selezionare per poter variare il valore con il nostro mouse ricordandoci sempre che possiamo utilizzare la tastiera di valori numerici per poter realizzare le nostre modifiche la scala è un valore che andrà sempre da 0 a 100 stessa cosa se io fleggo la scala uniforme andrà sempre da 0 a 100 rotazione andrà sempre da meno 360 a più 360 quindi possiamo realizzare rotazioni in entrambi i sensi e quando superiamo l'angolo di 360 gradi comparirà un 1 per ciò significa un giro più 94 gradi posso andare così avanti all'infinito e filtro di antisfarfallio come detto va da 0 ad 1 possiamo selezionare soltanto valori intermedi accanto a tutti questi effetti un'icona che si può notare è questa freccetta questa freccetta serve a ripristinare i vari parametri o l'intero effetto a quelli che erano i parametri di base quindi se io comincio a premere il ripristina parametro questo mi verrà riportato a posto come era all'inizio così facendo io ho riportato l'immagine come era inizialmente ma voglio farvi vedere mostrarvi un'altra cosa posso addirittura non andare a ripristinare parametro per parametro ma tranquillamente ripristinare tutto l'intero effetto quindi tutti i parametri contenuti all'interno dell'effetto un altro pulsantino un'altra icona che si nota accanto alle voci dei vari effetti è quella dello stopwatch lo stopwatch non è altro che il cronometro e serve ad attivare disattivare la creazione di keyframe e quindi di animazioni vedremo approfonditamente in una lezione successiva ma era importante farvi notare la presenza di questa icona una volta che noi abbiamo applicato delle trasformazioni alla nostra immagine un'altra cosa che possiamo fare è abilitare o disabilitare un effetto cosa significa nel momento in cui noi andiamo a cliccare su questo pulsantino qua con l'icona della scritta effects noi attiveremo e disattiveremo l'effetto questa funzione è disponibile per tutti gli effetti che noi andremo ad applicare sulla nostra clip nel caso specifico del movimento quando andremo a disattivarlo lui porterà tutti i valori a zero ma questi valori non saranno resettati all'interno dell'effetto come se noi cliccassimo sull'iconcina del ripristino no semplicemente saranno disabilitati momentaneamente per farci vedere una comparazione tra il prima e il dopo altri effetti che noi troveremo di base sono quelli per l'opacità che non sta altro che all'opacità della nostra immagine quindi se è al 100% abbiamo l'immagine completamente piena se noi scendiamo con il valore questa immagine diventerà più trasparente ve lo mostro subito attenzione di base l'effetto opacità ha al suo interno già i keyframe attivati cosa significa che nel momento in cui noi andremo a realizzare una qualsiasi modifica quindi in questo momento sono a 100% andrò a scendere con la mia opacità quindi rendendo l'immagine più trasparente in automatico l'effetto genererà un keyframe come detto questo è un argomento che affronteremo di seguito la generazione e l'utilizzo dei keyframe ma è ben sapere che è possibile disabilitare questa opzione ricliccando sullo stopwatch cliccando sullo stopwatch ci verrà chiesto se vogliamo accettare di eliminare tutti i fotogrammi che esistono perché stiamo disabilitando la funzione d'animazione quindi clicchiamo ok e verrà eliminato il keyframe che abbiamo generato così facendo possiamo muoverci tranquillamente nell'opzione trovando quello che è il valore di opacità che più ci aggrada per la nostra immagine naturalmente è possibile ritornare a realizzare dei keyframe d'animazione ricliccando di nuovo sullo stopwatch sempre nel pannello dell'opacità quello che troviamo è il metodo diffusione il metodo di diffusione li troviamo ampiamente utilizzati in photoshop quindi possiamo scegliere se sovrapporre un'immagine se schiarirla se schermarla se bruciarla insomma tutte le opzioni che sono presenti anche nei livelli di photoshop un consiglio che vi do è di giocare tantissimo per impararli tutti quanti per capire le differenze l'uno dagli altri per esempio il moltiplica moltiplica i bianchi e lascia e lascia neri al contrario quelli di scherma e di schiaritura lavorano sui neri lasciando invariati i bianchi dall'altro lato la sovrapposizione sovrappone in modo diverso i punti bianchi e i punti neri che sono presenti nella nostra immagine poi ancora abbiamo quelle per il colore con la tonalità la salutturazione oppure le differenze tra le immagini quindi differenze esclusione sottrazione e divisione tra colori e pixel ancora una cosa che notiamo all'interno del nostro effetto opacità è questa serie di tre icone questa serie di tre icone che è stata aggiunta nella versione 2014 di premier serve a realizzare delle maschere veloci all'interno di premier maschere che possono essere tra le altre cose automaticamente tracciate generate sia personalmente con un disegno con la pennetta oppure possiamo realizzarle quadrate o tonde andremo a vedere questa opzione in particolare in una lezione appositamente un altro effetto che troviamo di base sulle nostre clip è quella della modifica del tempo modifica del tempo che serve a rallentare o a velocizzare la nostra clip e anche su questo effetto di base vi è una lezione approfondita che vi consiglio di guardare perché in questa lezione vi mostro più metodi per poter velocizzare o rallentare la nostra clip se questi erano di base gli effetti per il video adesso vediamo quelli che sono di base gli effetti per l'audio abbiamo l'effetto del volume del volume per canale e del panning andiamo a guardare tutti quanti come vedete di base tutti quanti come per l'opacità hanno attivato lo stopwatch per l'animazione tranquillamente possiamo andare a defleggare tutti gli stopwatch per non realizzare i keyframe d'animazione il primo per l'effetto del volume possiamo andare ad incrementare il volume fino a 6 db fino a scendere per mutare la nostra immagine quindi già sotto i 50 db sarà difficile ascoltare qualcosa con quest'altra opzione oltre al livello possiamo ignorare il livello che c'è sotto quindi animando questo parametro possiamo scegliere di ignorare o meno la modifica del volume del nostro livello ancora un'altra opzione un altro effetto predefinito che troviamo è quella del volume per canale naturalmente questo effetto viene applicato di base perché in timeline ho una clip che contiene due tracce una traccia stereo praticamente per il canale destro e per il canale sinistro quindi io troverò l'opzione per il volume solo del canale sinistro e solo per il canale destro con la possibilità sempre di un'ulteriore opzione per ignorare fleggando questa casella le modifiche che ho realizzato i valori sottostanti ultimo effetto è quello del panning ossia il bilanciamento del suono questo si ha quando abbiamo un audio stereo e possiamo scegliere di bilanciare verso destra o verso sinistra andando da meno 100 a 100 naturalmente in casi normali è bene tenerlo a zero così che l'audio sia bilanciato tra destra e sinistra in questa lezione vedremo come si applicano e gestiscono gli effetti sulle clip in Premiere Pro abbiamo visto le lezioni precedenti che abbiamo due tipologie di pannelli per quanto riguarda la gestione e la creazione di effetti questa è la libreria dove abbiamo tutto il nostro materiale ma una volta applicato noi quello che possiamo fare è gestire questi determinati effetti dal pannello del controllo effetti il pannello del controllo effetti di norma quando non abbiamo nulla selezionato in timeline è vuoto nel momento in cui andiamo a selezionare una clip che sia audio video o audio video contemporaneamente ci si apriranno le impostazioni di base ossia gli effetti di base che già abbiamo visto ossia l'effetto di movimento l'opacità e la modifica del tempo per quanto riguarda la parte video e quindi se abbiamo una clip video se abbiamo solo una clip audio ci si apriranno gli effetti di volume e panning del volume e se invece abbiamo una clip audio video insieme quindi collegate tra di loro ci si apriranno tutti gli effetti citati precedentemente ma mettiamo il caso che noi vogliamo andare a gestire ed applicare una color correction al nostro progetto quindi al nostro montato in questo caso abbiamo un montato molto ma molto semplice come funziona l'applicazione e la gestione degli effetti in Premiere ho parlato di correzione colore questa non è la lezione sulla correzione colore e sullo strumento più potente che c'è in Premiere ossia lo strumento Lumetri ma andiamo semplicemente a vedere la gestione di un effetto che è quello delle curve che si può trovare all'interno di Premiere scrivendo nel campo della ricerca Premiere se avete la versione aggiornata ci dirà che questo effetto sia curve RGB è un effetto datato e obsoleto infatti penso che verrà eliminato nelle prossime realisi del software perché adesso le curve RGB sono integrate nel panel Lumetri che vedremo nelle lezioni successive ma adesso voglio mostrarvi soltanto la gestione di un effetto sulla nostra clip e questo è quello lì è uno degli effetti applicabili che rendono di più l'esempio per applicare un effetto alla nostra clip come detto possiamo trascinarlo su una determinata clip questa in timeline verrà evidenziata da un bordino e abbiamo se è un effetto video ci si evidenzieranno le clip video se invece è un effetto audio in questo caso non posso trascinarlo sulle parti audio perché non è un effetto audio quindi relativo a questa determinata traccia ma come vedete se io passo sulla traccia audio della clip che è collegata alla traccia video lui ci permette di applicarla diciamo che applichiamo l'effetto delle curve alla prima clip l'effetto delle curve non sto qui a spiegarvelo sono semplicemente le curve RGB abbiamo 4 quadranti una per le curve generali una per la curva rossa verde e blu diciamo che abbiamo realizzato la modifica al nostro effetto abbiamo ottenuto quello che noi derisideravamo ossia una determinata correzione colore adesso dobbiamo andare a gestire il fatto che dobbiamo replicare la stessa correzione colore anche alla seconda clip la prima cosa che viene in mente è quella di ricopiare un determinato effetto e invece di trascinarlo possiamo selezionare la nostra clip nuova e cliccare due volte sull'effetto quindi questo verrà applicato in automatico poi all'interno del pannello contro l'effetto e quindi alla clip stessa l'obiettivo quindi sarebbe quello di ricreare la stessa tipologia di color quindi lo stesso andamento delle curve ottenuto nella modifica precedente adesso o perdiamo un po' di tempo e riusciamo ad ottenere la stessa identica configurazione delle curve come ottenute in precedenza ma è un po' più complicato del previsto oppure una delle cose che possiamo fare è andare a cancellare l'effetto nella seconda clip andare nella prima a selezionare l'effetto soltanto vedete il nome dell'effetto è cliccabile e selezionabile andare su modifica copia selezionare la seconda clip fare modifica incolla così facendo noi abbiamo copiato ed incollato lo stesso effetto con gli stessi parametri ad un'altra clip questa è una delle operazioni più comuni che si possono fare quando si lavora con gli effetti quindi copiare ed incollare lo stesso effetto con parametri differenti un'altra operazione comune può essere tranquillamente quella di disattivare quell'effetto per vedere il risultato prima e il dopo basta cliccare sul pulsantino FX nel pannello del controllo degli effetti per disattivare quell'effetto e riattivarlo in tempo reale ma questa tipologia di modifica va fatta clip per clip quindi bisogna disattivare e riattivare un effetto clip per clip c'è una nuova funzione all'interno di Adobe Premiere Pro 2017 è quella di poter disattivare momentaneamente degli effetti globali quindi di tutta la timeline stesso dal nostro monitor programma con questo semplice pulsantino che è possibile richiamarlo dal più quindi l'editor dei pulsanti che noi abbiamo qui in basso a destra del nostro monitor programma troveremo il pulsantino per la disattivazione degli effetti qui come ultimo e basta trascinarlo tra i nostri pulsanti per averlo sempre a disposizione io già l'ho configurato mi si trova in questa posizione qui se lo clicco lui disattiverà tutti gli effetti presenti in timeline e mi mostrerà il video così come era in origine una cosa in particolare che questo toggle quindi questo pulsantino va a fare è disattivare soltanto gli effetti secondari ossia quelli aggiunti in un secondo momento infatti se noi lo riattiviamo quindi abbiamo attivo una correzione curve RGB con il nostro effetto andiamo a modificare ad esempio la scala e il movimento andando a disattivare questi effetti momentaneamente verranno disattivati gli effetti secondari ossia quelli inseriti in un secondo momento ma quelli di base non verranno riazzerati momentaneamente se invece ci riclicco su Premiere mi riattiverà tutti gli effetti che avevo messo in precedenza ma consideremo di avere un'enorme quantità di clip all'interno del nostro montato d'accordo immaginiamo che abbiamo un'ora di montato e tutte queste clip hanno bisogno del medesimo effetto una cosa che si può fare come visto in precedenza è copiare l'effetto selezionare tutte le clip fare modifica ed incolla così facendo noi incolleremo su tutte le clip che abbiamo selezionato lo stesso effetto ma dovremo per eventualmente modificare quell'effetto andare clip per clip e andare a modificare le curve o nel caso se dobbiamo rincollare di nuovo su tutte le clip lo stesso effetto andare a cancellare una ad una gli effetti da ogni clip per poi ripetere l'operazione nel primo caso quindi in questo caso un'altra opzione che è possibile attivare è quella della gestione della cancellazione degli effetti ossia selezionando le clip su cui vogliamo operare possiamo cliccare con il tasto destro del nostro mouse e troveremo la dicitura rimuovi attributi cliccando su questa dicitura ci si aprirà questo pannello e lui ci chiederà quali attributi vogliamo eliminare dalle nostre clip selezionate naturalmente io per esempio non voglio che venga toccato il volume il panning e il volume del canale non voglio che vengano toccati effetti movimento opacità o modifica del tempo ma voglio che vengano eliminati soltanto gli effetti delle curve RGB facendo così cliccando ok lui eliminerà da tutte le nostre clip soltanto l'effetto che abbiamo selezionato quindi in questo caso erano le curve RGB se noi avevamo più effetti ad esempio se noi avevamo più effetti applicati alla nostra immagine adesso ne inserisco due se io voglio eliminare solo uno dei due effetti posso fare rimuovi attributi selezionare quello che non mi interessa e ad esempio voglio mantenere le curve RGB quindi le seleziono clicco ok e lui eliminerà soltanto l'effetto equalizza ma per ovviare a questa problematica perché comunque è una metodologia scorretta di lavoro o meglio ancora è obsoleta da diverse versioni di Premiere Pro è disponibile un nuovo una nuova tipologia di livello mi spiego meglio andiamo all'interno della nostra cartella di progetto e andiamo a cliccare su file nuovo e andiamo a scegliere il livello di regolazione che cosa è il livello di regolazione prima di tutto quando cliccheremo il pulsante per creare un livello di regolazione ci chiederà le impostazioni quindi quanto deve essere largo quanto deve essere alto la base temporale in questo caso sono tutti i parametri che lui va a richiamare dall'ultima sequenza disponibile su cui stiamo lavorando e non dovremo preoccuparci di selezionare altro nel caso contrario basterà modificare questi parametri per renderlo per rendere questo livello utilizzabile nella vostra sequenza clicchiamo ok e abbiamo ottenuto un nuovo elemento all'interno del nostro progetto sia un livello di regolazione di che cosa si tratta nel momento in cui lo vado a trascinare sulla mia timeline e lo estendo dato che non ha limiti di tempo essendo un elemento vuoto lo estendo sulla mia timeline e lo posiziono sopra le mie clip come è possibile notare non cambia assolutamente nulla e sì perché questo livello è in pratica un filtro questo filtro ci servirà per estendere un effetto un determinato effetto su più clip contemporaneamente mi spiego cosa voglio dire se voglio applicare una curva RGB a tutte le clip che sono sotto il livello di regolazione mi basterà applicare a livello di regolazione stesso l'effetto di curva RGB e andare a modificarlo quindi a creare la mia correzione colore una volta applicato a livello di regolazione lui estenderà quello effetto a tutte le clip che sono sotto di lui quindi in questo caso abbiamo applicato a tutte le clip della nostra timeline lo stesso medesimo effetto con la comodità naturalmente che se vogliamo andare a modificare quel determinato effetto o una determinata curva noi possiamo andare a modificare la curva e questa si modificherà su tutte le clip nel caso in cui avessimo bisogno di lavorare clip per clip possiamo tranquillamente evitare di utilizzare un livello di regolazione e andare ad applicare clip per clip gli effetti interessati in questa lezione andremo a vedere come risolvere uno dei problemi che spesso capita quando andiamo ad effettuare un montaggio ossia stabilizzare un'immagine possono capitare immagini tipo questa ad esempio una panoramica girata a mano che va stabilizzata fortunatamente da diversi anni a questa parte Premiere e i software Adobe che gestiscono la parte video integrano uno stabilizzatore per le immagini il processo molto semplice sta nel prendere l'effetto che troviamo all'interno del nostro pannello degli effetti sotto la voce distorsione troveremo lo stabilizzatore alterazione VFX per far funzionare questo effetto ci basterà trascinarlo sulla clip ed attendere che Premiere analizzi il file in background noi nel frattempo possiamo continuare a lavorare al nostro materiale mentre Premiere lavorerà all'analisi del nostro materiale nel pannello controllo effetti sulla sinistra possiamo vedere una percentuale di analisi che sta effettuando Premiere e un tempo stimato per terminare questo passaggio ci dice analisi in background passaggio 1 di 2 perché realizzerà due passaggi di analisi Premiere il primo è l'analisi del materiale il secondo passaggio invece sarà la stabilizzazione in sé secondo passaggio che ogni volta che noi andremo a modificare un valore che tra poco vedremo che porta una banda di colore arancione andrà a ripetersi eccolo qui questo è il secondo passaggio senza far nulla quindi soltanto applicando l'effetto noi otterremo la clip stabilizzata ora questo tipo di effetto questo tipo di elaborazione funziona spesso ma ci sono dei casi in cui funziona e dei casi in cui l'effetto che dà è totalmente sbagliato prima di tutto andiamo ad analizzare quelli che sono i parametri che noi vediamo nell'effetto stabilizzazione alterazione troviamo una voce stabilizzazione una voce bordi ed una voce avanzate cominciamo con la prima naturalmente sopra queste tre voci troviamo il pulsante per analizzare il nostro materiale e per annullare l'operazione in corso in questo caso l'analisi già stata effettuata quindi possiamo andare soltanto a modificare i parametri sotto la voce stabilizzazione troveremo la voce risultato la voce uniformità metodo e mantieni scala partiamo dal primo la voce risultato questa voce ci fa una domanda ben specifica noi vogliamo stabilizzare uniformemente il nostro girato quindi in questo caso è una panoramica verso l'alto noi vogliamo stabilizzarla quindi eliminare quei movimenti fatti dall'operatore a mano oppure vogliamo fermare l'immagine al centro e quindi stabilizzare al centro la nostra immagine quindi praticamente avere un campo fisso nel primo caso quindi movimento uniforme noi andiamo a stabilizzare l'intera durata della clip andiamo a stabilizzare quelli che sono i movimenti creando un movimento uniforme se invece selezioniamo la voce nessun movimento quello che Primer farà è rielaborare la clip e la stabilizzazione ma adesso andrà a prendere e a stabilizzare soltanto una porzione della nostra inquadratura quindi quella centrale li stabilizzerà e fermerà solo una porzione della nostra clip quindi stabilizzando e mantenendo puntato al centro l'inizio quindi l'inizio del nostro fotogramma come potete vedere l'immagine che abbiamo sotto tende a scendere verso il basso io sotto ho la stessa la stessa clip quindi posso anche deselezionarla mentre l'immagine tende ad andare in basso noi vediamo anche che fa un movimento un pochino strano l'immagine e adesso andiamo a capire il perché comunque il primo parametro quello del risultato noi dobbiamo andare a decidere se vogliamo che la nostra immagine risulti immobile e quindi Primer va a prendere tutte le informazioni possibili e a rendere quanto più possibile immobile la nostra immagine oppure a rendere il movimento che fa l'operatore uniforme quindi morbido eliminando quindi tutti quei movimenti che normalmente capitano quando si gira a mano il secondo parametro è il parametro dell'uniformità diciamo che questa è la quantità di stabilizzazione che noi andiamo ad inserire all'interno della nostra clip più che quantità di stabilizzazione la quantità di contro movimento che Primer realizza per poter stabilizzare l'immagine di norma il parametro è settato su 50 se noi andiamo a mettere il parametro a 100 il movimento di contro stabilizzazione sarà molto molto prepotente e dipende da caso a caso da clip a clip questo parametro quanto influisce sulla nostra immagine la prima cosa che possiamo notare è che attivando e disattivando l'effetto la nostra immagine viene naturalmente croppata sui bordi e sui lati per rendere possibile quella che è la stabilizzazione naturalmente la stabilizzazione se noi vedremo la nostra immagine vedremo che comincerà a ruotare a spostarsi e a scalarsi nello spazio e quindi Primer cosa fa? taglia la porzione in eccesso per permetterci di avere comunque l'immagine stabilizzata a tutto schermo aumentando questo parametro di uniformità noi naturalmente andremo ad esasperare questi movimenti e quindi in alcune circostanze dovrà croppare davvero molto la nostra immagine di norma il parametro ideale è il 50% ma ci sono delle situazioni dove ad esempio la stabilizzazione non riesce al 100% quindi non riesce perché l'immagine è mossa su troppi assi ed è troppo frenetica addirittura applicando una stabilizzazione in determinati casi si può peggiorare il risultato allora è possibile applicare la stabilizzazione ma provare ad utilizzare un parametro intorno al 10-15% per cercare di attenuare quanto più possibile il movimento senza creare ulteriori artefatti all'interno della nostra immagine visto questo parametro andiamo a quello successivo che è quello del metodo se noi apriamo la tendina del metodo vedremo che ci sono diverse opzioni la prima è l'opzione di posizione posizione scala e rotazione prospettiva ed alterazione del sottospazio di norma e di base è selezionata questa voce qui alterazione del sottospazio che fa una cosa un pochino particolare per chi conosce il funzionamento ad esempio della stabilizzazione interna dei sensori delle macchine fotografiche l'alterazione del sottospazio fa esattamente questo cioè prende la nostra immagine e la ruota in uno spazio tridimensionale lungo i tre assi per permettere di stabilizzare quanto più possibile l'immagine se invece noi vogliamo soltanto stabilizzare l'immagine sugli assi della posizione possiamo farlo possiamo dire a Premier di calcolare questo tipo di stabilizzazione e Premier non andrà a calibrare quindi a stabilizzare quelli che sono i leggeri movimenti di rotazione che si possono ancora percepire se noi andiamo a selezionare posizione scala e rotazione Premier stabilizzerà la nostra immagine utilizzando questi tre parametri ossia quello della scala quello della rotazione e quello della posizione andando a stabilizzare quanto più possibile secondo i due assi X ed Y quella che quelli che sono i nostri movimenti errati in fase di ripresa andando a stabilizzare utilizzando la prospettiva Premier comincerà ad utilizzare Premier comincerà ad utilizzare anche il terzo asse quindi farà una stabilizzazione 3D utilizzando sempre posizione scala e rotazione ma utilizzando anche l'asse Z mentre utilizzando l'alterazione sottospazio utilizza tutti i precedenti parametri più una serie di piccole accortenze naturalmente un po' complesso entrare nello specifico perché ci sono una serie di algoritmi che vanno a controbilanciare quelli che sono i movimenti che Premier ha riscontrato all'interno della nostra clip nel caso in cui noi volessimo mantenere la scala attiva noi possiamo andare a dire all'interno di questa seconda opzione che è quella dei bordi di non ricostruire i nostri bordi in questo caso se io seleziono la voce stabilizza solo noi noteremo lungo i bordi della nostra immagine troveremo delle righe nere questo perché noi stiamo vedendo quello che è la stabilizzazione che premerà portato la nostra immagine si può notare sopra e ai lati queste righe nere se noi invece vogliamo andare non solo a stabilizzare ma anche a ritagliare le parti eccessive quindi per ottenere un fotogramma pulito possiamo cliccare su la seconda nostra opzione che stabilizza e ritaglia le parti in eccesso così che noi avremo un quadrato al centro un rettangolo al centro quindi un contorno unico attorno alla nostra immagine delle porzioni di immagine che si muovono troppo andando a selezionare la terza invece di opzione stabilizza ritaglia e scala automaticamente premer farà le prime due opzioni quindi andrà a stabilizzare a ritagliare le parti in eccesso e a scalare a tutto schermo la nostra immagine così permette a noi di non vedere il bordo nero attorno alla nostra immagine se invece andiamo a utilizzare l'ultima opzione premer andrà a sintetizzare i bordi ossia non non applicherà una scala automatica per arrivare a tutto il nostro fotogramma ma cercherà di sintetizzare i bordi quindi di ricrearli nel caso in cui fosse possibile nel caso in cui fosse possibile tenterà di sintetizzare quindi ricostruire i bordi della nostra immagine per permetterci di tenere la scala quanto è più possibile vicino all'originale ma ci sono delle situazioni come ad esempio in questo caso c'è questo angolo in alto a destra che premer non riesce a calcolare quindi nel mio caso viene fuori questo triangolino nero che premer non riesce a calcolare tra le altre cose con questa opzione l'effetto diventa molto ma molto ma molto più pesante quindi la scelta ideale è questa qui stabilizza ritaglia e scala automaticamente la nostra immagine subito sotto noi troviamo all'interno di questa voce la percentuale di scala che è stata applicata alla nostra immagine nel nostro in questo caso in questa stabilizzazione la scala applicata è del 102,4% noi possiamo andare a scalare aggiuntivamente la nostra immagine senza dover utilizzare il primo parametro di scala che è quello lì animabile che noi utilizziamo per riposizionare la nostra immagine nell'effetto movimento ma possiamo andare ad aggiungere stesso qui una percentuale di scala aggiuntiva nel caso in cui ad esempio noi non volessimo scalare automaticamente la nostra immagine vogliamo mantenere il controllo noi tranquillamente possiamo andare a digitare ad esempio 103% perché abbiamo visto che prima scalandola automaticamente andava all'incirca al 102,5% andando al 103% siamo sicuri che noi ritaglieremo la nostra porzione di bordi che non ci interessa una delle caratteristiche positive di lavorare con i software Adobe e quindi non solo con Adobe Premiere Pro ma lavorare con tutta la suite Adobe è che è possibile un interscambio di file e di progetti tra software a software in modo molto semplice e lineare quello che vi sto mostrando ad esempio è una clip lavorata in Adobe After Effects lavora e ragiona in un modo molto particolare grazie ai Dynamic Link infatti la clip originale è in questione io l'ho in timeline è questa qui andando a lavorarla io ho cancellato uno dei personaggi una delle persone che passano all'interno di questa clip ma in questa lezione non vogliamo parlare di come è possibile cancellare una persona da un'immagine ma parliamo dei Dynamic Link Dynamic Link che sono un sistema di interscambio file e lettura dei progetti tra i software Adobe e troviamo e basterà andare nel menu file Adobe Dynamic Link e possiamo vedere quelli che sono i Dynamic Link in questo caso noi potremo sostituire con una composizione di After Effects realizzare una nuova composizione con After Effects oppure importare una composizione di After Effects adesso vi faccio un esempio diciamo che noi vogliamo lavorare questa clip all'interno di After Effects ci basterà selezionarla andare nel menu file Adobe Dynamic Link sostituisci con una composizione di After Effects cliccandoci sopra naturalmente io già avevo un progetto aperto in After Effects lui creerà una nuova composizione importerà il materiale e ci mostrerà quello che è il taglio effettivo che noi abbiamo in Timeline allo tempo stesso in Timeline a noi cambierà una cosa che non avremo più la nostra clip ma avremo una composizione importata da After Effects e questo lo vediamo anche nel nostro pannello di progetto dove troviamo oltre a questa composizione che è questa qui che vi ho mostrato prima troveremo questa seconda che è quella relativa alla clip che noi abbiamo appena sostituito adesso noi a questa clip possiamo realizzare qualsiasi tipo di lavoro ad esempio io creo una semplice maschera diciamo che abbiamo effettuato una serie di operazioni di lavorazioni vado a salvare senza renderizzare mi ritroverò naturalmente l'effetto all'interno di Adobe Premiere Pro naturalmente quando effettuiamo lavorazioni molto complesse quindi composizioni complesse all'interno di After Effects all'interno di Premiere queste animazioni dovranno essere pre-renderizzate in molti casi per essere visualizzate infatti Premiere mi mostra su questa clip il rigo rosso che significa che questa clip per essere visualizzata in tempo reale ha bisogno di un pre-render che noi semplicemente cliccando invio sulla nostra tastiera potremo realizzare una volta realizzato il pre-render avremo realizzato un file di cache dove questo file viene renderizzato in preview e noi possiamo continuare a montare e vederlo all'interno di Premiere Pro nel caso in cui noi effettuassimo modifiche specifiche alla nostra composizione ad esempio aggiungendo uno sfondo e salvando il nostro progetto di After verrà ricaricato all'interno di Premiere Pro con la modifica e naturalmente andrà renderizzato nuovamente un'altra lavorazione possibile che noi possiamo fare è importare una composizione già esistente all'interno di un progetto di After Effects ad esempio all'interno del mio progetto di After Effects ho questo testo animato che voglio importare all'interno di Premiere Pro come si fa? semplicemente cliccando dal menu file adobe dynamic link importa composizione da After Effects andiamo a selezionare il nostro progetto di After Effects e cliccandoci sopra sulla destra ci compariranno tutte le composizioni che porta al suo interno noi selezioniamo quella che a noi interessa clicchiamo su ok e lui ci realizzerà il dynamic link con quella composizione che noi possiamo tranquillamente andare a trascinare sulla nostra clip ed utilizzare tra le altre cose uno degli aspetti fondamentali è che porta con sé anche il canale alfa infatti la mia composizione ha presente un canale alfa molto pesante soltanto per mostrare il testo in questo caso il mio testo è di un colore scuro dato che lo sto utilizzando su un'immagine chiara voglio cambiare il colore in bianco salvare e contestualmente mi ritroverò la composizione cambiata anche all'interno del Adobe Premiere Pro uno dei problemi nel quale si può incorrere più spesso lavorando con fotocamere digitali è quello del rolling shutter ossia l'effetto che si ottiene facendo delle panoramiche veloci repentine con le nostre macchine digitali l'effetto del rolling shutter non è altro che il tempo di acquisizione dell'immagine da parte del nostro sensore che di norma avviene dal basso verso l'alto e che non essendo abbastanza veloce come in macchine più performanti ci mostrerà questa ondulazione della nostra immagine detto anche effetto budino come è possibile all'interno di Premiere riparare il problema del rolling shutter nelle ultime versioni all'interno di Premiere Pro è stato aggiunto l'effetto con cui noi possiamo andare a correggere questo errore l'effetto si trova naturalmente nel pannello degli effetti e si chiama riparazione scansione lineare oppure in inglese rolling shutter repair basterà trascinarlo sulla nostra clip ed andare a agire sui parametri questa operazione naturalmente è possibile farla anche all'interno di After Effects dove originariamente solo lì era possibile riparare a questo effetto dato che i parametri dell'effetto sono gli stessi ed è un'elaborazione abbastanza pesante e complessa per il software andiamo a farla in Adobe After Effects grazie a Dynamic Link possiamo sostituire la nostra clip in timeline con una composizione di After Effects e una volta aperta la composizione di After Effects noi troveremo sotto al menu effetti distorsione troveremo il rolling shutter repair eccolo qui grazie a questo effetto che è un effetto molto ma molto pesante da calcolare da renderizzare noi riusciremo a riparare quanto più possibile al nostro problema ci sono naturalmente casi e casi un po' come per la stabilizzazione però la maggior parte del problema riusciamo a risolverlo abbiamo pochissimi parametri uno dei quali è quello di decidere la riparazione da dove deve avvenire quindi il modo in cui acquisisce l'immagine il nostro sensore nel nostro caso nella maggior parte dei casi è dall'alto verso il basso infatti noi vedremo che le prime linee che si muovono quindi la parte più fedele rispetto al movimento è la parte superiore e poi tende a inclinarsi verso destra perché la parte inferiore è quella che recepisce i pixel quindi l'immagine molto più lentamente quindi andiamo a selezionare il nostro sensore e come lavora quindi in che modo acquisisce l'immagine vi ripeto di norma è dall'alto verso il basso ed andiamo ad utilizzare la percentuale di riparazione in questo caso ad esempio nel mio caso che è un caso estremo io dovrò utilizzare il parametro 100% e comunque non ho corretto completamente l'effetto di rolling shutter che ho sulla mia immagine e come potete vedere anche andando in preview con una macchina abbastanza performante la preview e il render sarà abbastanza lento ma grazie a questo effetto ho risolto non del tutto ma in buona parte il problema dei rolling shutter all'interno di Adobe Premiere Pro sotto la voce effetti abbiamo la possibilità di visionare tutti quelli che sono gli effetti che noi possiamo applicare sia alle varie clip sulla nostra timeline che a dei livelli di regolazione gli effetti sono tanti vi farò adesso una veloce carrellata di quelle che sono le categorie degli effetti e ve ne mostrerò alcuni così da capire come è stata ragionata la suddivisione degli effetti in categorie all'interno di Adobe Premiere Pro un consiglio che vi do naturalmente è quello di testare un po' tutti gli effetti per capirne i vari funzionamenti nello specifico la prima categoria che ci viene presentata e naturalmente sono in ordine alfabetico è quella tradotta canale in italiano ossia tutti quegli effetti che vanno ad alterare ed elaborare quelli che sono i canali della nostra immagine uno degli effetti che ho aggiunto per farvi capire il funzionamento è l'effetto inverti che serve ad invertire quelli che sono i canali del colore all'interno del pannello controllo effetti naturalmente noi avremo tutte le possibilità di poter modificare tutte quelle che sono le opzioni dei vari effetti e nello specifico quella di inverti ad esempio abbiamo la possibilità di invertire il canale RGB quindi i tre canali colore oppure invertire soltanto il canale rosso solo il canale verde il blu e così via andiamo alla prossima categoria che è quella invece del controllo dell'immagine come vedete Adobe ha suddiviso quelle che sono gli effetti che parlano del colore quindi che trattano il colore in tre categorie principali quella dei canali quella del controllo dell'immagine e quella della correzione del colore naturalmente queste tre lavorazioni sono tre tipi di elaborazioni completamente diverse l'una dall'altra e che quindi è giusto che vengano suddivise in tre categorie separate infatti uno degli effetti che io ho preso dalla categoria del controllo immagine è quella del bilanciamento dei colori naturalmente parliamo del bilanciamento dei colori RGB in questo caso ad esempio io potrò andare a lavorare di lavorare soltanto uno dei tre canali quindi andando ad aumentare ad abbassare i toni solo per quel canale colore quindi posso soltanto abbassare i toni verdi posso abbassare quelli rossi ed alzare quelli blue passando alla prossima categoria che è quella della correzione colore uno degli effetti più conosciuti negli ultimi anni è l'effetto lumetri effetto che viene applicato al momento in cui noi clicchiamo sulla voce colore della nostra interfaccia la nostra interfaccia cambierà e ci aprirà il pannello lumetri e nel momento in cui andremo a fare una variazione a quel pannello verrà applicato l'effetto colore lumetri con quelle variazioni infatti da questo pannello noi possiamo andare a creare delle elaborazioni sui colori quindi sulla correzione del colore così facendo possiamo fare una color correction del nostro materiale la prossima categoria iniziamo a ragionare su quelli che sono gli effetti che ne applichiamo nei nostri clip quindi non solo più controllo del colore ma veri e propri effetti elaborazioni delle immagini la prossima categoria è quella della distorsione questa categoria racchiude due degli effetti che già abbiamo visto nelle precedenti lezioni che sono quella della stabilizzazione e quella invece per riparare il problema del rolling shutter quindi della scansione lineare dei nostri sensori ma ve ne voglio mostrare un altro di effetto che è ad esempio quello della specularità una volta applicato ed attivato abbiamo dei semplici parametri che ci mostrano il punto attorno al quale grazie ad un angolo di riflessione la nostra immagine verrà riflessa quindi noi possiamo giocare con questi parametri per creare delle immagini molto particolari ed aiutare la creatività della narrazione dei nostri video andiamo alla prossima categoria che è quella invece del disturbo e granulosità con questa categoria di effetti noi possiamo aggiungere una serie di effetti una serie di elaborazioni che ci permettono di aggiungere dei disturbi all'interno della nostra immagine quello che utilizzo io più frequentemente il disturbo con il disturbo gaussiano quindi genera un rumore con cui noi possiamo applicare una semplice veloce grana sulle nostre clip la prossima categoria oltre a quelle personalizzate che ho io all'interno del mio software che sono plug-in esterni è quella che serve a generare degli elementi sulle nostre clip ora possiamo generare un cerchio un'ellisse una griglia una cosa che però io volevo mostrarvi è che è possibile generare delle sfumature quindi se noi ad esempio avessimo non per forza una clip video ma ad esempio un logo con alfa noi possiamo andare a dargli una sfumatura colore grazie a questo semplice effetto e creare quindi delle composizioni grafiche molto particolari nella prossima categoria invece andiamo in quella della prospettiva e qui ad esempio abbiamo due o tre effetti molto simpatici uno di questi ad esempio è il 3D di base con cui noi possiamo andare a effettuare delle semplici elaborazioni in 3D della nostra immagine e quindi realizzare delle composizioni anche con un minimo di 3D senza dover per forza passare per Adobe After Effects in questa categoria ad esempio troviamo anche l'effetto di ombra esterna che noi possiamo applicare così che la nostra immagine proietti un'ombra così come in Photoshop sull'immagine inferiore andiamo alla prossima categoria che è quella invece delle regolazioni qui quello che voglio mostrarvi è l'effetto Pro Camp non vi spiego ora tutti i parametri a cosa serve questo effetto perché ci sarà una lezione approfondita soltanto su questo tipo di elaborazione un po' più avanti poi troviamo la categoria degli effetti di sfocatura e di contrasto uno degli effetti che più utilizzo da questa categoria è quella della sfocatura gaussiana con cui possiamo andare a sfocare un'immagine naturalmente cliccando questa fantastica opzione che ripete i pixel lungo i bordi così da non creare aree nere noi possiamo andare a sfocare le nostre immagini e creare delle cose piuttosto particolari andando avanti abbiamo la categoria degli effetti di stilizzazione e qui uno degli effetti di stilizzazione più classici è quello del mosaico con cui noi possiamo andare a rendere poco visibile un'immagine possiamo andare a definire grazie a questi parametri una determinata zona o possiamo addirittura aggiungere una maschera a solo questo effetto andare a ritagliare una maschera lungo la nostra immagine e fare in modo che soltanto una porzione o un'area della nostra immagine sia affetta da questa modalità mosaico naturalmente la generazione di maschere il tracking di maschere che affronteremo nelle lezioni successive è possibile farlo con qualsiasi effetto la categoria successiva invece parliamo degli effetti di tempo gli effetti di tempo ne sono soltanto due uno è l'eco e l'altro invece l'effetto di tempo di posterizzazione l'effetto eco diciamo è l'effetto fantasma che crea delle scie attorno ai soggetti in movimento dato che l'immagine che sto utilizzando è un'immagine statica voglio mostrarvi il tempo di posterizzazione non è altro che un effetto che abbassa la frequenza dei fotogrammi delle nostre clip in questo caso ad esempio ho messo 12 e quindi noi vedremo la nostra clip andare in play a 12 fotogrammi possiamo naturalmente abbassare questo valore anche a 5 e vedremo soltanto 5 fotogrammi per secondo nella categoria successiva invece vediamo quelli che sono gli effetti di trasparenza diciamo ce ne sono diversi tutti gli effetti di trasparenza io tendo a non utilizzarli all'interno di Adobe Premiere Pro ma a passare per Adobe After Effects infatti uno di questi effetti è trasparenza colore che non è altro che il key light di Adobe After Effects ma molto più sempliciotto normalmente tendono a utilizzarli proprio ma sappiate che c'è la possibilità di fare delle lavorazioni veloci anche in Adobe Premiere Pro categoria successiva invece sono le transizioni attenzione non sono delle vere proprie transizioni ma sono degli effetti con cui è possibile realizzare delle transizioni ad esempio abbiamo l'effetto veneziana che ci permette di creare questa tipologia di animazione naturalmente grazie al fatto che è un effetto noi possiamo andare a modificare tutti quelli che sono i parametri quindi possiamo decidere ad esempio che c'è una linea ogni 500 pixel e possiamo andare a completare l'animazione con questo cursore che tra le altre cose potremo animare e questo lo vedremo nelle lezioni successive un'altra categoria è quella invece delle trasformazioni delle immagini e uno degli effetti che ho utilizzato tantissimo negli anni passati è quello del ritaglio dell'immagine perché prima non c'erano le maschere in Premiere Pro quindi quello che è possibile fare con questo effetto è andare letteralmente a tagliare porzioni della clip da destra a sinistra da sinistra a destra e quindi ottenere soltanto una porzione della clip possiamo andare anche a sfumare i bordi con questo effetto e l'ultima categoria di cui voglio mostrarvi è la categoria degli effetti video che sono queste sono delle vere e proprie utilità perché infatti abbiamo l'effetto codice di tempo con cui è possibile applicare un timecode sulla nostra clip abbiamo tutti i parametri per poter spostare questo timecode nello spazio renderlo più grande i parametri con cui mostrare il nostro timecode se generare un timecode per la clip se deve eseguire la clip se deve eseguire l'oggetto multimediale quindi abbiamo diverse diverse possibilità per utilizzare il nostro timecode che diventa molto utile quando si fanno montaggi molto complessi ed un altro effetto molto interessante è quello del nome della clip cioè questo effetto che sovrappone sulla nostra immagine il nome della clip che stiamo utilizzando quindi proprio del file e questo quando si fa un lavoro che poi deve essere revisionato da una terza persona è interessante sovrapporre il nome del file così da avere dei riferimenti veloci nel caso in cui dobbiamo modificare una determinata clip o meno nel nostro progetto e infine abbiamo dalla versione 2018 la categoria degli effetti per video immersivo che sta per video VR quindi per tutti per tutti i montati sono tutti effetti che servono per lavorare con le clip in VR uno degli aspetti fondamentali e funzionali che troviamo all'interno dell'Adobe Premiere Pro è la possibilità di animare tutti o quasi tutti i parametri tramite keyframe cosa sono i keyframe o meglio fotogrammi chiave in italiano in questo caso ad esempio vi mostro quella che è una traccia audio con applicati dei keyframe ossia di fotogrammi chiave per quanto riguarda la traccia il volume dell'audio questo è un tipo di visualizzazione e nelle lezioni successive vi spiegherò come attivare questo tipo di visualizzazione e come funziona ma in questa lezione voglio tenermi su quelle che sono sul concetto di fotogrammi chiave il fotogramma chiave non è altro che in quel preciso momento del tempo un determinato parametro deve avere un determinato valore così facendo aggiungendo più di questi fotogrammi chiave noi possiamo creare un'animazione vi faccio un esempio all'interno della mia in questa mia timeline ho due animazioni con fotogrammi chiave che sono queste due questa inquadratura e quest'altra inquadratura voi vi direte ma che tipo di fotogrammi chiave sono stati aggiunti beh sono stati aggiunti dei fotogrammi chiave sulla posizione quindi sul parametro di posizione permettendo quindi una panoramica da destra verso sinistra e nella seconda clip sono stati aggiunti dei fotogrammi sul parametro della scala quindi per creare la sensazione di avvicinamento all'inquadratura infatti le due inquadrature realmente sono queste due qui vediamo un attimo se riesco ad eliminare i fotogrammi chiave ve le mostro ok le due inquadrature realmente sono queste quindi abbiamo semplicemente due campi fermi realizzate su un cavalletto mentre qui abbiamo una panoramica ed uno zoom quindi abbiamo capito che realizzare dei fotogrammi chiave ci permette di creare delle animazioni di tantissime forme e tipi vi ho fatto tre degli esempi più classici ossia animare la posizione di un oggetto all'interno dello spazio animare la scala di un oggetto all'interno dello spazio ed animare quella che è la traccia il volume dell'audio come vedete su questa traccia sono presenti 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyframe per la traccia del volume se io ci clicco sopra nel pannello controllo effetti troverò il livello del volume animato con questi 6 keyframe con una visualizzazione un pochino diversa questi disegnini sono i nostri keyframe questi punti e ogni forma di keyframe quindi ogni forma che noi stiamo vedendo corrisponde a un tipo di curva tipi di curve che analizzeremo in una lezione successiva ma è importante sapere che la loro visualizzazione o meglio come vengono presentati all'operatore che le sta realizzando hanno differenti icone ma veniamo subito ad un esempio chiaro e lampante andiamo ad animare un testo quello che io voglio è che questo testo che per ora è immobile venga animato nella sua scala ora andiamo nel pannello del controllo effetti dove troviamo tutti gli effetti che noi in questo momento abbiamo applicato al nostro livello che è semplicemente un testo e troviamo come tutti gli effetti il pannello l'effetto di movimento quindi ne possiamo attivare possiamo utilizzare i parametri di posizione scala rotazione e quant'altro come fare ad identificare se un parametro è animabile oppure no basterà vedere se c'è quest'iconcina accanto quando c'è quest'iconcina che è l'icona del cronometro o meglio dire in inglese stopwatch noi possiamo in qualsiasi momento cliccarla e da quel momento ne stiamo animando quel parametro come avete visto nel momento in cui ho cliccato dove si trova il mio cursore e a me si trova all'inizio della clip ho inserito un keyframe non so se si vede o si vede poco io tento di zoomare lo sposto un pochino ha creato il mio primo keyframe e lo ha creato in questo punto del tempo perché avevo il cursore in questo punto su questo parametro perché ho cliccato questa iconcina qui di questo parametro ha questo valore cioè 100 al 100% se mi sposto nel tempo e dico che il valore deve cambiare a 120 il software andrà a scalare la mia clip a 120% ma aggiungerà un altro keyframe questo perché abbiamo attivato lo stopwatch di riferimento di questo parametro ed adesso tra un keyframe ed un altro Premiere creerà un'interpolazione ossia andrà ad associare tutti gli altri fotogrammi a dei valori intermedi rispetto a questo intervallo la sto facendo difficile in realtà Premiere andrà ad animare tra questo punto che era il 100% e questo punto che adesso è il 120% ci andrà ad animare la nostra animazione e quindi creerà in automatico l'inserimento di altri ipotetici fotogrammi chiave che compongono l'animazione questo è il primo esempio di come si creano dei fotogrammi chiave e che cosa sono un altro esempio come vi dicevo in precedenza è quello di animare il volume ad esempio io in questa traccia ho già dei fotogrammi chiave inseriti ne posso aggiungere altri come mi sposto dove ad esempio non c'è un fotogramma e vado a variare il valore in questo caso ad esempio lo abbasserò di tanto come vedete anche da questa rappresentazione grafica si creerà un punto molto più basso degli altri perché è un valore più basso ma allo stesso tempo io posso spostarmi su un altro fotogramma se clicco shift mentre mi sposto verrà attivato lo snap quindi la calamita su questi fotogrammi mi sposto su un altro fotogramma e posso andare a cambiarlo addirittura quindi lo posso abbassare o al contrario posso alzarlo e ancora io posso andare a cancellare dei fotogrammi quindi ne posso selezionare e li posso cancellare stessa operazione io la posso fare anche da qui mi basterà selezionare il fotogramma come vedete si seleziona col mouse tasto destro elimina ci sono anche altre funzioni ma che vedremo nelle lezioni successive quando si parla di keyframe di fotogrammi chiave parliamo quindi di animazione una cosa che noi dobbiamo affrontare è creare questi fotogrammi chiave e la loro relativa curva di animazione che cosa è la curva di animazione in primis la curva di animazione vi faccio un esempio questa è la visualizzazione di alcuni fotogrammi chiave in particolare ne sono 4 1, 2, 3 e 4 e qui troviamo la curva di animazione quindi abbiamo questa curva qui ciò significa che il valore da questo punto qua tende a crescere leggermente a un picco e poi tende a scendere ora per aggiungere fotogrammi chiave e per lavorare sulla curva di animazione noi possiamo farlo in due modi il primo di due è quello di selezionare la clip che ci interessa ad esempio questa andare nel pannello controllo effetti andare a cliccare sullo stopwatch del parametro che noi vogliamo animare ad esempio la rotazione in questo caso spostarci nel tempo e cambiare il valore così facendo noi creiamo un'animazione questo è il primo modo per creare fotogrammi chiave il secondo modo per poterli creare è andando a lavorare sulla nostra clip ora una volta che noi abbiamo creato questa animazione a differenza ad esempio della visualizzazione che noi abbiamo sulla timeline di questa curva di animazione noi vediamo i keyframe animati e una linea che li congiunge mentre su quest'altro su quest'altra clip noi non vediamo questi keyframe posizionati anche se realmente ci sono perché noi abbiamo il parametro rotazione animato con due keyframe inseriti questo perché in questo momento la timeline ci mostra sulla clip un'altra linea che è quella dell'opacità in automatico Premiere ci mostrerà sempre la linea di animazione dei keyframe dell'opacità per i video ed il livello del volume per l'audio infatti quello che noi stiamo andando a modificare qui nella clip di sotto è il livello dell'effetto audio quindi è il livello del volume dell'audio mentre quello che noi abbiamo animato adesso sulla prima clip è il parametro di rotazione e quindi quello che noi vediamo qua come vedete se lo passo col mouse su questa linea il puntatore cambierà icona questo perché se noi clicchiamo su questa linea e andiamo a trascinarla abbasseremo l'opacità un'altra cosa che voglio farvi notare è che in questo caso noi non stiamo creando keyframe ma stiamo semplicemente andando a modificare il parametro questo perché non è mai stato inserito il primo keyframe dovete sapere che quando si va a lavorare con i keyframe e si vogliono creare dei keyframe per realizzare un'animazione bisogna creare il primo keyframe manualmente gli altri poi verranno creati in automatico vi faccio un esempio in questo caso modificando questa linea spostandola nello spazio noi andiamo a modificare il parametro di opacità ma andiamo ad inserire il primo keyframe andiamo nel sottomenu opacità quindi nel pannello del controllo effetti come vediamo lo stopwatch per l'opacità è sempre attivo ma non c'è il primo keyframe come fare per applicare il primo keyframe per crearlo basta cliccare su questo pulsantino qua aggiungere e muovere keyframe una volta aggiunto comparirà il primo keyframe sulla nostra clip sulla nostra timeline ci potremo spostare nel tempo aggiungere un altro keyframe e spostare il valore quindi in questo caso ad esempio lo abbassiamo così facendo si creerà una curva di animazione con due keyframe posizionati ora se io clicco sul keyframe e lo sposto questo keyframe si sposterà sia nel tempo quindi in questa direzione sia nel suo valore quindi se lo alzo lo abbasso vario il valore così facendo quindi io posso lasciare ad esempio in questo punto qui il keyframe si sarà spostato nel tempo e avremo creato un'animazione differente un'altra cosa da sapere nel caso specifico in questo caso specifico quando abbiamo due keyframe di inizio e di fine animazione se andiamo oltre questi keyframe noi avremo naturalmente il continuo della curva di animazione quindi questa è la fine della nostra animazione e questo è l'inizio quindi abbiamo questa linea che è l'inizio della nostra animazione della nostra curva e questa invece è la fine della nostra curva di animazione se noi senza selezionare il keyframe andiamo a spostare questa linea sposteremo soltanto il valore del keyframe subito precedente stessa cosa per questo sposteremo il valore del keyframe subito successivo ma eravamo al parametro di rotazione io disattivo ora i valori dell'opacità come vedete è tornata la linea ad essere resettata come posso vedere i valori dei keyframe qui per la rotazione ma ci basterà cliccare con il tasto destro sull'iconcina FX così facendoci si aprirà un sottomenu che ci chiederà quale valore dobbiamo mostrare in anteprima sulla nostra clip in questo caso io voglio vedere il parametro di rotazione quindi andrò sotto la voce movimento rotazione facendo così noi abbiamo abilitato il valore della nostra curva di animazione da vedere sulla rotazione e notiamo che ci sono i due keyframe che noi abbiamo anche qui nel pannello del controllo effetti ma se ci fate caso questi due keyframe sembrano rimanere sulla stessa linea beh in realtà no in realtà i due keyframe sono spostati nello spazio semplicemente che il valore di rotazione è un valore molto particolare perché può andare quasi all'infinito quindi questo movimento che ne abbiamo fatto fare di circa 80 gradi tra un keyframe e l'altro è un valore molto molto basso che non incide sul grafico della nostra timeline infatti se io tendo ad abbassare questo valore quindi vendo il keyframe e lo abbasso vedrò che praticamente il valore da 78 gradi è passato a meno 91x240 quindi praticamente farà 10.000 rotazioni questa clip quindi invece tornando a quello dell'opacità come vi mostravo prima in precedenza se noi andiamo ad attivare dei keyframe in questo caso ne facciamo uno a zero ed uno a 100 noi avremo anche qui la nostra curva d'animazione che possiamo andare a controllare in questo modo qui ma per aggiungere keyframe in modo visuale grafico come possiamo fare? abbiamo un altro strumento che si chiama lo strumento penna all'interno della nostra toolbox che noi selezionandolo ed utilizzandolo sulla nostra curva d'animazione vedete che cambia l'icona dello strumento in questo caso noi possiamo aggiungere un punto quindi se noi ci clicchiamo sopra possiamo andare a creare un nuovo punto o possiamo andare ad eliminarlo come semplicemente selezionando e premendo cancella altre impostazioni di questo strumento sono mantenendo premuto il tasto comando o control sulla nostra tastiera ci si aprirà quest'altro tool quest'altro tool ci serve per trasformare il nostro keyframe in un keyframe gestito tramite curve e bezier curve e bezier interpolazione da fotogrammi che tratteremo in una lezione successiva grazie parliamo di interpolazione cos'è l'interpolazione tra i fotogrammi come abbiamo detto nelle lezioni precedenti quando andiamo a realizzare due fotogrammi chiave ad esempio prendiamo l'effetto trasformazione e lo applichiamo ad un nostro testo quando creiamo due fotogrammi il primo ad esempio a scala 100 e lo spostiamo nel tempo e il secondo a scala 0 ad esempio abbiamo creato un'animazione questa animazione in particolare abbiamo scelto che in questo preciso punto del tempo il valore della scala deve essere 0 e il valore nel secondo punto temporale deve essere 100 così creando un ingresso a questa nostra clip che in questo caso è un testo ma nel mezzo in questo spazio temporale qui nel mezzo noi non abbiamo detto a Premier cosa deve fare e in automatico lui tra i due fotogrammi li ha interpolati ossia ha detto ad esempio che nella metà del tempo quindi nella metà dello spazio tra questi due punti il valore deve essere 50 questo perché lui ragiona fa un calcolo con un algoritmo e ci dice secondo l'interpolazione che noi abbiamo scelto che in questo caso di base è lineare adesso vi mostro come e perché è lineare esegue un calcolo e dice crea una corrispondenza di tanti fotogrammi che sono invisibili nel nostro occhio e dice in questo punto preciso del tempo il valore di quel parametro deve essere x perché poi alla fine di questo lasso temporale deve essere quello scelto dall'utente se noi andiamo a cliccare sulla freccettina accanto al parametro che abbiamo animato ci si aprirà un'altra un'altra visualizzazione la visualizzazione grafica come la possiamo avere ad esempio qui in timeline quello che noi vediamo che è mostrato da questo da questo grafico è l'interpolazione come dicevo prima è lineare ossia abbiamo una linea retta che congiunge i due punti in modo lineare ma noi possiamo decidere di interpolare questi fotogrammi in diverso modo come ci basterà selezionare ad esempio i fotogrammi uno o tutte e due cliccare col tasto destro e scegliere il tipo di interpolazione come curve a baesier le curve a baesier in automatico curve a baesier a contrasto il blocco dell'animazione e ci sono poi dei presentaggi che sono ingresso graduale ed uscita graduale ad esempio andiamo a cliccare su ingresso graduale cliccando su ingresso graduale innanzitutto cambierà quella che è l'icona del nostro keyframe mostrandoci che è stato applicato un'interpolazione completamente differente e ci si apriranno delle possibilità come ci si apre questa maniglia che è una maniglia classica delle curve baesier che è una curva matematica ci permetterà di essere tirata in avanti ad esempio e creare una curva in questo caso andando ad aumentare il valore di questa curva vedremo che l'interpolazione è cambiata in modo esponenziale come? perché i parametri in questo caso saranno vedete leggeri 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 cambiamenti fino a che a un certo punto aumenta ed arriva in modo lineare alla fine della sua corsa questo è un tipo di interpolazione diverso rispetto a quello lineare se adesso andiamo a selezionare anche per l'ultimo facciamo uscita graduale avremo la stessa possibilità e avremo la possibilità di creare un'animazione classica che è detta ad S quindi noi che andiamo a creare questa forma d'onda qui così facendo comincerà lentamente velocizzerà e rallenterà nel tempo prima della fine dell'animazione questo è il modo in cui si crea un'animazione non solo in Adobe Premiere Pro ma anche in Adobe After Effects i concetti basilari sono gli stessi un altro tipo di curva che noi vediamo qui oltre all'interpolazione del parametro del movimento è quello della velocità che ci può essere molto d'aiuto in tanti altri casi ad esempio in questo caso qui se io vado a modificare quest'altro valore grafico come vedete mi cambierà quello che è il valore dell'interpolazione nel grafico di sopra questa curva qui serve a capire molto di più quello che accade nella curva superiore come vediamo quello che accade nella curva superiore è una sorta di S quindi i valori crescono lentamente accelerano e poi terminano in modo più lento stessa cosa la possiamo vedere dal grafico successivo quello inferiore come questo qua è il grafico della velocità con cui cambia il valore del parametro quindi comincia lentamente qui ha un picco di cambio repentino e poi tornano a cambiare lentamente così facendo noi abbiamo creato un'altra animazione completamente differente altri tipi di interpolazione che noi possiamo decidere di dare al programma sono ad esempio l'interpolazione del blocco che cosa significa che non vi è interpolazione con i fotogrammi successivi possiamo creare interpolazione grazie al primo dei due fotogrammi ma arrivati a quel punto lì il fotogramma non riceverà interpolazione con quelli precedenti come vedete e ci sarà un cambio netto tra il fotogramma precedente e quello successivo quindi non verrà calcolato stessa cosa se lo facciamo sul primo fotogramma come vediamo abbiamo due valori lo 0 e il 100 basta quindi da qui in poi non ci sarà interpolazione perché abbiamo deciso che il valore iniziale che è 0 deve rimanere per tutto questo tempo e poi deve diventare 100 all'improvviso questo è il valore bloccato dell'interpolazione quindi non c'è interpolazione tra i due fotogrammi ed è pari a 0 quindi il valore cambia esattamente quando c'è il fotogramma se ad esempio io aggiungo un altro fotogramma e dico 50 me lo aggiungi in automatico con l'interpolazione di quello precedente da questo punto in poi quindi da un fotogramma all'altro diventerà 50 senza interpolazione con il fotogramma precedente l'interpolazione tra i fotogrammi è la base per creare delle animazioni molto più fluide rispetto a quelle che si possono creare semplicemente applicando due keyframe e nella lezione successiva vediamo qualche esempio in questa lezione voglio mostrarvi come funzionano delle differenze dei tipi differenti di animazioni grazie ai keyframe e come realizzarle allora la prima che possiamo vedere è un'animazione di due keyframe dove da 0 arriva a 100 ma con un'interpolazione di tipo bezier con una S nel mezzo come potete vedere parte l'animazione lentamente accelera in un punto e termina poi lentamente nel secondo caso ad esempio abbiamo un'interpolazione un po' più particolare perché abbiamo 3 keyframe da 0 arriva a 120 per poi tornare a 100 quindi abbiamo questa sorta di blup del nostro oggetto che va avanti e torna indietro con un'interpolazione sempre con le curve bezier dove abbiamo questa curva molto ma molto morbida rispetto a quella che potrebbe essere una curva più rigida e dopo capiamo qual è la differenza un terzo esempio è quello invece di un ingresso laterale con questo tipo qui di curva di animazione cerco di mostrarvelo dove l'ingresso parte lento per arrivare velocemente e l'esempio è questo mentre se facciamo al contrario un'animazione al contrario dove parte velocemente ed arriva lentamente l'effetto sarà questo qui ora come avete visto nella maggior parte dei casi sono pochi keyframe ma cambia completamente quello che è l'effetto applicato all'animazione andiamo a capire come realizzare ognuno di questi effetti partiamo dal primo il primo come abbiamo visto è un semplice effetto di scala quindi se noi andiamo a resettare il nostro valore decidiamo di andare in un punto del tempo io diciamo che voglio andare a 12 fotogrammi seleziono la mia scala a 100 quindi aggiungo il primo keyframe torno indietro e metto la mia scala a 0 così facendo io ho creato un'interpolazione lineare tra due fotogrammi in automatico e vediamo che l'animazione è pressoché una linea ma se io li seleziono entrambi clicco su entrambi col tasso destro e faccio interpolazione con curva bezier mi si apriranno e cambieranno le icone dei miei keyframe andando a zoomare un pochino potrò vedere che sono comparse delle maniglie di animazione classiche delle curve bezier quindi prendiamo questa la portiamo un pochino indietro e portiamo quest'altra un pochino avanti così facendo abbiamo creato una S che ricopre e ci ricorda la nostra animazione precedente naturalmente poi in animazione bisogna sempre andare a lavorare di fino quindi fare più tentativi finché non si trovano i giusti compromessi nelle curve per la giusta animazione nel secondo esempio invece che può sembrare più ostico in realtà è molto più semplice di quanto si possa pensare andiamo qui eliminiamo tutti i nostri fotogrammi allora creiamo il primo fotogramma a 100 andiamo all'inizio della clip ne creiamo un altro a 0 poi andiamo verso la fine ne creiamo uno a 120 se non anche di più quando facciamo 150 come potete vedere rispetto a prima adesso la nostra interpolazione è di tipo lineare quindi abbiamo proprio dei movimenti nettissimi tra un punto e l'altro d'accordo? questo è il nostro esempio se io seleziono tutti e tre i fotogrammi clicco col tasto destro e faccio curve Bézier in automatico ad esempio Premiere andrà ad ammorbidire in automatico le nostre curve creando nuovamente delle icone per i nostri keyframe diversi ma il risultato secondo me non è quello che noi vogliamo quindi andiamo leggermente a modificare queste curve come prendendo la maniglia del primo fotogramma e trascinandola la seconda stessa identica cosa anche dall'altro lato e anche per il terzo fotogramma trasciniamo la nostra maniglia indietro ora abbiamo ottenuto l'effetto precedente dove praticamente abbiamo una sorta di blup del nostro elemento visivo dove zooma troppo rimane un attimo in posizione e torna indietro al valore di fine animazione di fine corsa quindi in questo modo possiamo creare un'animazione di questo genere terzo esempio invece parliamo di un ingresso laterale quindi andiamo a posizionarci nel punto in cui vogliamo che l'animazione termini resettiamo i nostri parametri e diamo il primo keyframe che sarebbe il valore di arrivo andiamo indietro nello spazio e ci spostiamo naturalmente fuori dal quadro in questo caso perché vogliamo fare un ingresso in questo caso come possiamo vedere dalle nostre icone l'interpolazione è in modo lineare ma andando a cliccare sulla freccettina laterale potremo vedere che il grafico è completamente diverso da quello della scala sì perché se per quello della scala noi abbiamo in automatico per il nostro valore un valore che sale e che scende per quello del tempo è un po' differente perché qua parliamo di accelerazione e non di valori che crescono e che salgono quindi quello che dobbiamo andare a fare è ragionare come vi ho mostrato nella lezione successiva nella lezione precedente dove avevamo il secondo grafico infatti quello che a noi capiterà adesso è di lavorare con il secondo grafico quello dell'accelerazione dei parametri quindi dobbiamo ragionare allo stesso identico modo selezioniamo i nostri due keyframe tasto destro interpolazione del tempo in questo caso e possiamo fare curve bésier ok non è cambiato nulla perché la nostra animazione è ancora uguale quello che dobbiamo andare a fare è andare a modificare il modo in cui i valori accelerino nel tempo quindi noi vogliamo che in questo caso l'arrivo sia lento la partenza sia lenta e l'arrivo sia veloce quindi andiamo a trascinare il nostro primo valore in questo modo qui così da creare una curva di accelerazione di questo tipo dove i valori lentamente accelerano fino ad arrivare a un picco di accelerazione e in questo caso ancora hanno una curva in cui arrivano lentamente se noi andiamo a tirare dietro questo valore otterremo questo tipo di curva qui dove i valori crescono lentamente fino a questo punto qua dove hanno un picco di accelerazione e l'oggetto si ferma noi possiamo cliccare con il play e vedere che abbiamo ottenuto il nostro effetto possiamo fare la stessa cosa invece al contrario è dell'effetto molto più d'impatto a guardarsi quindi azzeriamo tutti i parametri andiamo a creare i nostri due keyframe uno di ingresso e uno di uscita uno di ingresso e uno di arrivo scusate andiamo ad aprire il nostro grafico li selezioniamo entrambi tasto destro interpolazione del tempo curve Bézier ora dobbiamo fare esattamente il giochetto opposto quindi tiriamo questa qui indietro e facciamo in questo modo qua adesso i parametri avranno un picco di accelerazione all'inizio per poi terminare molto più lentamente e l'effetto è questo ora vi starete domandando perché ho utilizzato l'effetto trasformazione e non l'effetto movimento già applicato di base alle nostre clip questo perché l'effetto trasformazione come ho già detto in qualche tutorial ci permette di aggiungere un motion blur alle nostre animazioni come? andando a deselezionare questa spunta che ne troviamo usa l'angolo di otturatore della composizione e andando a modificare l'angolo dell'otturatore a 180 gradi così facendo ne possiamo aggiungere e dire a premere di calcolare il motion blur dei nostri oggetti fatto ciò infatti se noi clicchiamo play otteniamo anche il motion blur alla nostra animazione un'altra cosa per esempio voglio mostrarvelo su questa clip qui quindi faccio gli stessi passaggi disabilito gli dico che deve utilizzare un angolo di otturazione diverso io lo imposto vado in play e vediamo che come un'accelerazione è completamente differente e anche un effetto completamente differente grazie all'utilizzo del motion blur possiamo farlo per tutti i nostri esempi così vi mostro come verrebbero in questo caso andiamo ad accelerare io per sbaglio avrò cambiato il parametro di centro del punto di ancoraggio ma non fa niente l'effetto è super giù questo ancora vediamolo anche su quest'ultimo e abbiamo questo effetto quindi come potete vedere l'animazione si può realizzare in Adobe Premiere Pro e si utilizzano gli stessi concetti di base che si applicano in Adobe After Effects tutto tramite i fotogrammi chiave e l'interpolazione tra di loro lavorando su questi parametri è possibile creare delle animazioni davvero interessanti vediamo ora degli esempi di post-produzione possibili con Adobe Premiere Pro ho importato diverse clip all'interno della mia timeline e quello che voglio fare è realizzare uno split screen o più volgarmente detto riquadri beh prima di tutto io nella mia timeline andrò a cancellare quelli che sono gli elementi che non mi interessano e metterò su diverse tracce video diverse clip ora le mie clip hanno differenti grandezze tutte quante quindi potrò andare tutte quante a scalarle per renderle omogenee fatto ciò posso decidere di andare a costruire quelli che sono quello che è il mio split screen andando a ritagliare parti delle immagini e a spostarle c'è un effetto in particolare che troviamo all'interno del nostro pannello controllo effetti che è l'effetto ritaglia grazie a questo effetto noi possiamo andare a realizzare dei tagli in percentuale delle nostre immagini vi mostro un esempio applico l'effetto alla clip che ho sopra sull'ultima traccia e avrò la possibilità grazie a questo effetto di tagliare una percentuale della mia immagine e unendo questo concetto io posso tranquillamente andare a spostare la mia immagine e andare a tagliare una determinata percentuale dal basso così ho creato il mio primo ritaglio quindi il mio primo riquadro prenderò la seconda clip la renderò un pochino più piccola la sposterò nello spazio e applicando l'effetto ritaglio potrò andare a ritagliare un pochino sulla destra per permettere poi di inserire un'altra immagine qui e un pochino in alto così da far comparire un leggero un leggero righino e far percepire quindi il collage delle immagini ora prenderò la terza immagine andrò a spostare anche questa nella posizione che più preferisco la zoom un pochino applico anche ad essa l'effetto ritaglia e andrò a ritagliare cercando di creare un righino quanto più simile possibile agli altri perfetto così facendo con l'utilizzo di pochi click ed un solo effetto che l'effetto ritaglia abbiamo creato una composizione o un collage che può essere di clip video può essere composto di fotografie o di altri contenuti uno strumento molto interessante all'interno di Adobe Premiere Pro è il tool dedicato alle maschere infatti a determinati effetti è possibile applicare quelle che sono delle maschere così da poter oscurare determinate parti oppure ritagliare porzioni di quelle immagini grazie alle maschere nel mio caso ho un esempio dei più banali che può capitare e dover utilizzare le maschere ad esempio io in questa inquadratura ho un'automobile che porta esposta una targa ora il mio intento è quello di andare a sfocare questa targa per non farla per non renderla leggibile quindi andrò a prendere il mio effetto di sfocatura sfocatura caossiana e andrò a trascinarlo qui sulla mia immagine ora prima di andare ad applicare l'effetto quindi a aumentare il valore per per applicare la sfocatura andiamo a creare un ritaglio ossia a tagliare questa porzione d'immagine come possiamo farlo beh all'interno del pannello controllo effetti proprio sotto la voce del nostro effetto dove è disponibile abbiamo la possibilità di creare delle maschere questi tre come vedete iconcine sono presenti non solo sotto la sfocatura gaossiana ma anche sotto quella dell'opacità questo è perché è possibile ad esempio anche con l'effetto dell'opacità andare a realizzare delle maschere che servono ad esempio ad oscurarne parte quindi a ritagliare una parte di quell'immagine l'esempio però che voglio apportarvi è quello sulla realizzazione di una maschera per un utilizzo specifico e abbiamo tre opzioni quella di poter creare una maschera ellittica una maschera poligonale a quattro punti oppure di andare a disegnare noi la maschera che più ci interessa nel mio caso basta una maschera a quattro punti quindi mi basterà cliccare sopra e verrà creata una maschera all'interno del mio pannello monitor e compariranno una serie di opzioni dedicate alla maschera per prima cosa andiamo a zoomare all'interno della nostra interfaccia e andiamo a posizionare al meglio la nostra maschera quindi prendiamo i quattro vertici e andiamo a posizionarli sui punti dove vogliamo che la maschera termini una volta fatto questo abbiamo applicato quella che è la nostra maschera e possiamo andare a realizzare la sfocatura quindi ad aumentare questo parametro come vedete adesso l'effetto della sfocatura in questo caso è applicato solo ed esclusivamente a quella che è la nostra targa noi abbiamo una serie di controlli a schermo il primo è questo quello più in alto che è un controllo per abilitare una sfumatura della nostra maschera sfumatura che può essere controllata anche dal nostro pannello del controllo effetti abbiamo poi l'espansione della nostra maschera che ci permette di espandere i bordi della nostra maschera oppure l'opacità della stessa ma nel momento in cui andrò a premere play la mia maschera rimarrà in quel posto questo perché deve essere animata e abbiamo due possibilità o animarla a mano come andando a cliccare sui keyframe spossandoci nel tempo e andare a ripiazzare quelli che sono i punti della nostra maschera oppure farlo fare dove è possibile ad Adobe Premiere Pro come utilizzando questi controlli che servono per il tracking abbiamo la possibilità di tracciare un fotogramma dietro di lanciare un play all'indietro per realizzare il tracking o al contrario realizzare un play e far analizzare tutto il footage oppure andare avanti di un fotogramma per volta io proverò a far andare a far analizzare tutta la mia sequenza da Adobe Premiere Pro e vediamo se la maschera risulterà corretta o meno terminato il calcolo andiamo a vedere e Adobe Premiere Pro ha realizzato tutta una serie di keyframe che vanno a mascherare la mia targa quindi a seguire la targa della mia auto per tutta la mia clip quindi adesso potrò andare ad aumentare ad esempio questo valore a 30 così da sfocarla completamente la sfumatura della maschera a 20 pixel mi basterà premere play e vedere che la mia sfocatura è stata applicata alla mia immagine grazie ad una maschera un'altra possibilità che ci viene data da Adobe Premiere Pro è quella di utilizzare i metodi di diffusione i metodi di diffusione sono uno strumento molto conosciuto per chi utilizza Adobe Photoshop o anche Adobe After Effects perché sono degli strumenti degli algoritmi con il quale il software interpreta i colori delle nostre immagini e va a fondere quelle che sono le nostre immagini per farvi questo esempio in timeline ho due clip una clip girata di uno scorcio del mare ed ho una clip invece con un fondo totalmente sovraesposto ed un'onda d'acqua davanti ora grazie ai metodi di diffusione io ho la possibilità di andare a fondere quelle che sono queste due clip come selezionando l'immagine sul livello superiore quindi che ho scelto di fondere con quella del livello sottostante andando nel pannello del controllo effetti nel pannello opacità per la precisione abbiamo questo menu a tendina detto metodo di diffusione scegliendo una di queste opzioni che ci vengono date come disponibili che sono le stesse che troviamo all'interno di adobe photoshop e adobe after effect abbiamo la possibilità di andare a fondere le nostre immagini secondo dei criteri ben precisi abbiamo lo scurisci che ci permette di eliminare tutte di eliminare tutte le parti bianche e lasciare tutte le parti nere andandole a contrastare abbiamo il moltiplica quello più utilizzato per eliminare tutte le parti bianche all'interno delle nostre immagini e come possiamo ben vedere l'effetto è molto suggestivo perché abbiamo eliminato completamente tutte le parti bianche facendo rimanere quelle che sono le parti vive che potevamo utilizzare abbiamo il brucia che ci permette di andare a bruciare quelle che sono i toni più scuri abbiamo la bruciatura lineare sono tutti stili e metodi di diffusione completamente differenti l'uno dall'altro quindi uno dei miei consigli è quello di testarli tutti quanti perché ad ogni utilizzo e ad ogni tipologia di immagini che noi andiamo ad aggiungere andrà meglio o peggio un determinato effetto ad esempio tutta la prima parte è dedicata all'eliminazione delle parti bianche per mantenere le parti scure mentre tutte le parti sottostanti sono esattamente per il contrario quindi per far rimanere tutte le parti chiare ed eliminare tutte le parti scure abbiamo differenti tipologie di metodo di diffusione tutte quante molto interessanti per creare delle combinazioni davvero molto eccentriche che possono dare un tocco e un tono in più ai nostri montaggi all'interno di Adobe Premiere Pro una delle applicazioni più importanti quando viene terminato un montaggio video è quella della realizzazione della color correction ossia andare a lavorare su quelli che sono i colori all'interno di Adobe Premiere Pro sono stati uniti tutta una serie di pannelli dedicati alla color correction ed è stato introdotto quello che è il pannello di colore Lumetri questo pannello è richiamabile mediante un effetto che viene applicato alle nostre clip o ad un adjustment layer ma Adobe ci mette a disposizione un determinato pannello che è il pannello colore che una volta selezionato ci reimposterà la nostra interfaccia totalmente dedicata alla color correction le parti fondamentali e più importanti naturalmente le notiamo sono l'oscilloscopio di Lumetri che abbiamo la possibilità di andare a variare per vedere l'istogramma per vedere l'allineamento RGB che sono dei parametri molto più tecnici quando si va a realizzare una color correction e che non fanno parte del corso base di Adobe Premiere Pro perché parliamo delle basi del montaggio all'interno di questo fantastico software mentre parte molto importante che ritroviamo all'interno di questa schermata è quello che è il pannello colore Lumetri ora se selezioniamo la nostra clip andiamo nel pannello controllo effetti vedremo che nel momento in cui andremo a modificare uno qualsiasi di questi parametri verrà applicato quello che è l'effetto Lumetri alla nostra clip ora cominciamo da quelle che sono le parti basilari abbiamo la prima parte che è detta correzioni di base e ci permette di importare una LUT e la vedremo nella prossima lezione abbiamo la possibilità di andare a correggere il bilanciamento del bianco mediante la temperatura e la tinta temperatura e tinta naturalmente sono dei valori il primo fa tendere l'immagine verso colori freddi o colori caldi mentre l'altro sposta la tinta dal verde al magenta questi due parametri sono molto importanti perché ci permettono di andare a bilanciare il bianco delle nostre immagini per velocizzare il processo abbiamo la possibilità grazie a questo color picker di cliccare selezionare il nostro punto di bianco all'interno della nostra scena e lasciare così facendo in automatico verranno settati dei parametri che comunque possiamo andare a piacimento a modificare se vogliamo un'immagine leggermente più calda o leggermente più fredda appena ho modificato questi valori come detto all'interno del pannello controllo effetti è stato applicato l'effetto colore lumetri che sostanzialmente riporta tutti questi tutti questi parametri tutte queste spunte tutto è naturalmente modificabile anche da questo pannello dal pannello controllo effetti naturalmente per comodità dato che abbiamo a disposizione un pannello completamente dedicato possiamo utilizzare questo andiamo avanti abbiamo poi tutti quelle che sono le modifiche al tono della nostra immagine quindi abbiamo un controller per l'esposizione per aumentarla per abbassarla il controller per il contrasto per alzare o abbassare il contrasto il controller per le luci per abbassare o alzare i punti di luce o ancora per abbassare o alzare le nostre ombre e con lo stesso concetto abbiamo la possibilità di abbassare i punti di bianco oppure alzarli o addirittura abbassare i punti di nero ed alzarli c'è differenza naturalmente tra le luci e i punti di bianco e tra le ombre e i punti di neri i bianchi e neri sono essenzialmente i punti bianchi e i punti neri che vengono esaltati mentre per quanto riguarda il concetto di luce e ombre Adobe Premiere Pro fa una selezione di quelle che sono le nostre luci e quindi le andrà ad alzare o ad abbassare quindi mantenendo quella che è la loro struttura la struttura dell'immagine stesso concetto si applica alle ombre e questo è il primo pannello dedicato a quelle che sono le correzioni di base abbiamo poi il pannello creativo ora questo pannello lo vedremo nella lezione successiva e serve ad aggiungere dei look alle nostre immagini ma essendo questa lezione parliamo solo del pannello lumetri e delle tecniche di correzione del colore quindi questo pannello lo vedremo nella lezione successiva abbiamo poi il pannello dedicato alle curve in passato per utilizzare le curve all'interno di Adobe Premiere Pro dovevamo aggiungere gli effetti alla nostra clip beh adesso è tutto integrato all'interno dell'effetto lumetri e quindi del pannello colore lumetri abbiamo la possibilità di andare a modificare le nostre curve di colore selezionare la master selezionare solo le curve di vari colori rosso verde o blu e poi abbiamo questa nuova integrazione da diverse da poche versioni a questa parte che ci permette di con uno strumento totalmente diverso andare a gestire quelle che sono tonalità e saturazione la tonalità sotto tonalità e la tonalità sulla luminosità o ancora la luminosità sulla saturazione e la saturazione sulla saturazione allora è più complesso leggerlo che spiegarlo e mostrarvelo allora caso tonalità su saturazione andiamo a decidere una determinata tonalità e decidiamo se volerla saturare di più o meno ho scelto il giallo che è l'unico colore che proprio manca prendiamo ad esempio il blu come potete vedere in questo lato qua dell'immagine grazie a questo selettore posso selezionare solo il punto di blu e andare ad esaltarlo tantissimo quindi sto selezionando una tonalità e saturandola facciamo lo stesso esempio tonalità su tonalità se vado a selezionarmi lo stesso punto di blu posso andare a variare la tonalità solo di quel colore quindi se voglio ad esempio che il blu tenda leggermente al ciano posso semplicemente alzarlo un pochino così oppure se voglio che ad esempio i rossi tendano un pochino più non so al giallo vedete la linea che viene indicata ci dice dove stiamo andando possiamo fare una cosa del genere questione di luma abbiamo ad esempio i rossi che sono piuttosto scuri quindi noi prendiamo un punto di rosso andiamo a tirarlo su e come vedete solo gli elementi che faranno parte della curva dei rossi verranno esaltati sotto forma di luminosità questo è molto importante perché questo ci permette di fare un color grading piuttosto avanzato perché abbiamo la possibilità di costruire e ricostruire quelli che sono colori quindi ricostruiamo l'immagine e viriamo i colori dove abbiamo intenzione di farlo per andare a capire questo quest'altro parametro con questo parametro noi possiamo andare a selezionare una determinata tipo di luminosità e andarne a variare quella che è la saturazione vi faccio un esempio utilizziamo il color picker e andiamo a selezionare questo punto qui questo punto qui di luminosità viene definito all'interno del nostro pannello in questo punto quindi noi andremo a saturare o desaturare quel determinato punto con questo controller qui essendo naturalmente questa zona già molto luminosa la saturazione non la vediamo ma è uno strumento molto utile stesso concetto lo possiamo applicare tra saturazione e saturazione quindi andare a scegliere ad esempio questo punto qui di colore e andare a decidere se solo quella determinata sfumatura di colore andare ad abbassarne la sua la sua saturazione o meno quindi abbiamo questo fantastico strumento che ci permette selettivamente di andare a trattare quella che è la saturazione passiamo al pannello successivo naturalmente come noterete ci sono delle spunte accanto a questi pannelli togliendo la spunta viene deselezionata la nostra correzione ma possiamo tranquillamente riattivarla anche in un secondo momento mentre con questa spunta qui andiamo ad azzerare tutti i valori altra cosa molto conosciuta è quello che è tradotto in italiano è corrispondenza a ruote colori in pratica stiamo parlando del colore a tre vie effetto molto conosciuto all'interno della Dove Premier Pro ora lo ritroviamo qua all'interno e abbiamo la possibilità tramite questi controlli molto interessanti di andare ad abbassare la luminosità solo delle ombre dei mezzi toni o delle luci oppure ad utilizzare la ruota dei colori per permettere il viraggio ora io sto cliccando con il tasto sinistro del mouse e tengo premuto e come vedete il mio cursore va piuttosto lentamente questo perché per una maggior precisione possibile nella selezione del colore ma se vogliamo muoverci molto più velocemente ci basterà premere il tasto shift sulla nostra tastiera contemporaneamente al tasto sinistro del nostro mouse per permetterci di muoverci molto più velocemente all'interno della ruota del colore per risettarla ci basterà fare un doppio click all'interno della nostra area altro campo molto interessante è quello dell'HSL secondario questa cosa ci permette di creare una sorta di maschera partendo da un colore di base per poi andarlo a colorare in un secondo momento questo strumento infatti ci permette di realizzare una chiave di un determinato colore per poi andarlo a colorare con questi strumenti che abbiamo qui vi faccio un esempio pratico vogliamo selezionare solo il cielo bene abbiamo lo strumento per impostare il nostro colore andiamo a cliccare il nostro cielo non è cambiato nulla se non qui all'interno questi sono i selettori del colore che hanno selezionato questa tipologia di colore qui bene ora per vedere quella che è la nostra selezione abbiamo questa spunta che una volta cliccata ci dà la possibilità di scegliere di vedere la nostra selezione colorata su grigio colorata su nero oppure bianco e nero quindi vediamo proprio la nostra maschera decidiamo di utilizzare il colore su nero e andiamo ad sistemare quelli che sono i nostri parametri perché noi possiamo andare con il nostro cursore a modificare leggermente quelle che sono le nostre selezioni come ad esempio aumentare leggermente quelle che sono le sfumature oppure abbiamo la possibilità di andare ad aggiungere dei colori delle sfumature di colore come selezionando il color picker con il più abbiamo la possibilità ad esempio di andare a fare quest'altra selezione andiamo a vedere la nostra maschera che è stata è stato aggiunto un pezzo di colore ancora voglio aggiungere anche questa parte qua di bianco perché mi interessa che questa sfumatura di bianchi venga interessata da questa color bene diciamo che abbiamo realizzato quella che è la nostra maschera abbiamo adesso degli strumenti per poterla rifinire abbiamo la riduzione del disturbo della nostra maschera che andandola ad alzare ridurremo la possibilità che la nostra maschera crei dei fastidiusi artefatti e abbiamo poi la possibilità di sfocare quelle che sono le nostre aree non selezionate la combinazione di questi due elementi ci permette di creare delle maschere che abbiano meno artefatti possibili una volta eseguita la nostra selezione della nostra maschera possiamo passare alla color solo di questa selezione come? andando ad esempio ad utilizzare una ruota di colore oppure a variarne soltanto la temperatura o ancora utilizzare lo strumento per aumentare l'angidezza per aumentare la saturazione o abbassare il contrasto quindi abbiamo questa serie di opzioni molto interessanti per colorare solo questa zona per vedere il risultato finale ci basterà se deselezionare questa spunta che ci seleziona la maschera beh il risultato in questo momento non è proprio dei più gradevoli ma come potete notare abbiamo creato una selezione specifica e abbiamo colorato solo quella determinata selezione ultima voce che troviamo all'interno del pannello colori unumetri è quella dedicata alla vignetta la vignettatura è uno strumento molto interessante per creare e focalizzare l'attenzione su un determinato elemento come si fa? beh semplicemente abbiamo il primo slider che ci permette di creare una vignetta nera o una vignetta bianca abbastanza sfocata quindi possiamo anche decidere qual è il grado della vignetta che vogliamo il secondo punto che decide ci dà il punto medio quindi il punto medio del raggio della nostra vignetta abbiamo poi la possibilità di renderla più quadrata o più tonda e quella poi di aumentare quella che è la nostra sfumatura grazie a tutti questi parametri all'interno del pannello colore lumetri abbiamo la possibilità di colorare le nostre immagini e di realizzare dei fantastici lavori uno degli utilizzi più comuni che si fa del pannello controllo lumetri è quello dell'assegnazione di una LUT alla nostra clip o al nostro girato che cosa è la LUT? la LUT dall'inglese lookup table è un file che permette la traduzione dei colori della nostra immagine virandoli secondo le impostazioni specifiche all'interno di quel file uno degli esempi più classici che si possono fare è quello dell'utilizzo della LUT per trasformare un'immagine da logaritmica quindi girata in log quindi con un basso contrasto per poter recuperare le luci e le ombre e trasformarla in quella che è la visione più comune dei colori che è la visione a REC 709 la REC 709 è uno standard internazionale per la visione dei colori in tv ebbene tutti i produttori di macchine fotografiche cinepresi o telecamere mettono a disposizione le proprie tabelle di conversione per il proprio girato queste tabelle sono essenzialmente delle LUT nel mio esempio ad esempio ho un'immagine girata con una Black Magic ed ho il file della LUT per convertire questa determinata immagine logaritmica in un'immagine REC 709 questo è il file che io ho della mia macchina da presa con cui ho girato questa clip una volta aperto come vedete verrà convertita l'immagine da lineare a REC 709 e grazie a queste impostazioni noi abbiamo ottenuto quello che può essere il risultato finale nulla toglie che poi possiamo andare a lavorare con i nostri strumenti per la color correction per andare ad aggiustare a rifinire quello che dovrà essere il risultato finale un'altra possibilità però che ci viene incontro è quello di utilizzare delle LUT creative io ad esempio ne ho una da mostrarvi questa LUT che è una LUT che si trova sul web a pagamento si chiama Vision 4 ed è dedicata alle immagini logaritmiche quindi a questo genere di immagini un pochino più grigiastre aprendola come vedete i toni della mia immagine non sono diventati standard utilizzo questa parola standard tra virgolette ma sono totalmente virati ad un aspetto tileno orange il tileno orange è quando si virano i colori caldi e freddi verso il ciano e questo arancio per le luci più scure beh questa è una LUT detta creativa che se ne trovano tantissime sul web e grazie all'applicazione con il pannello colore elometri abbiamo la possibilità di inserirle sul nostro montato e poi possiamo andare a lavorarle quindi possiamo andare a correggerle dove troviamo delle sbavature dove la nostra immagine non è propriamente in linea con quello che è la LUT di riferimento possiamo andare a correggerle grazie a questi parametri abbiamo però un'altra possibilità per essere creativi con Adobe Premiere Pro che è il pannello creativo ora Premiere ci mette a disposizione tutta una serie di preset che sostanzialmente sono delle LUT di conversione che ci danno la possibilità di creare delle cose piuttosto particolari con questo semplice controller possiamo andare a replicare quello che è ad esempio l'effetto pellicola un effetto pellicola della Fujifilm o andiamo avanti quello della Kodak quindi abbiamo una serie di strumenti creativi per poter una serie di look all'interno di Adobe Premiere Pro che ci permettono di andare a variare il colore a virare il colore delle nostre immagini abbiamo la possibilità naturalmente di utilizzare dei controlli come aumentare o diminuire quella che è l'intensità della luce del nostro filtro che stiamo applicando quindi del nostro look che stiamo applicando abbiamo poi una serie di parametri di regolazione che più che regolazione del colore sono delle regolazioni creative abbiamo la possibilità di sbiadire quella che è la nostra immagine quindi abbassarne i contrasti abbiamo la possibilità di aggiungere nitidezza o togliere nitidezza abbiamo la possibilità di aggiungere vividezza i colori ed eliminarla e abbiamo un altro controllo per aumentare ed abbassare la saturazione questi controlli naturalmente vanno ad aggiungersi a quelli che abbiamo a disposizione all'interno della correzione di base in più abbiamo la possibilità di due ruote colori una per virare le ombre la tinta delle ombre l'altra invece per virare la tinta delle luci e poi abbiamo uno slider che ci permette di bilanciare tra queste due ruote veniamo ora a quella che è una parte fondamentale della parte di montaggio quindi l'esportazione una volta che abbiamo terminato il nostro lavoro e vogliamo esportarlo beh per prima cosa dobbiamo sapere che dobbiamo dare a Premiere Pro la possibilità di poter scegliere e decidere cosa esportare come dando sulla nostra timeline un in e un out quindi dobbiamo dire ad Adobe Premiere Pro di esportare da un punto ad un altro ad esempio io nella mia timeline ho soltanto una clip quindi andrò all'inizio della mia timeline e premerò in sulla mia tastiera così da impostare l'in andrò poi alla fine e premerò il tasto O oppure posso utilizzare questa scorciatura qui sul monitor per impostare il mio out così facendo ho appena detto da Adobe Premiere Pro di esportare questa porzione di video fatto ciò quello che ci rimane da fare è andare su file esporta file multimediali e quello che ci si aprirà è il pannello di esportazione quindi dove noi possiamo andare a decidere tutte le nostre impostazioni per l'esportazione come funziona questo pannello beh funziona è composto da due parti abbiamo la parte sinistra dove vediamo il nostro output quindi vediamo tutte le immagini che verranno esportate abbiamo la possibilità di far decidere nel caso in cui la dimensione del frame sia differente da quella che noi impostiamo all'interno del panno del progetto se far scalare adattare scalare per riempire la nostra immagine o allungare per riempire la nostra immagine nella parte destra invece abbiamo le impostazioni di esportazione abbiamo il formato quindi abbiamo la possibilità di scegliere tra i vari formati abbiamo sotto la possibilità di scegliere tra un preset un predefinito che possiamo o creare noi oppure ne troviamo tanti realizzati da Adobe possiamo scegliere di aggiungere un commento oppure cliccando su questo pulsante sul nome ci verrà chiesto dove salvare il nostro file e il nome da assegnargli ancora possiamo decidere se esportare solo video o solo audio o esportarle entrambi e qui avremo un ripilo delle nostre impostazioni scendendo un pochino più sotto abbiamo diversi pannelli da poter configurare il primo pannello è quello dedicato agli effetti e voglio mostrarvi soltanto una cosa in particolare che è quello della possibilità di applicare una loot a tutto il nostro esportato quindi se noi montiamo un determinato video che avrebbe bisogno di una loot su tutte le clip possiamo decidere di montare senza applicare nessuna loot e poi farlo esportare applicandogli quella determinata loot poi ci sono tutta un'altra serie di impostazioni piuttosto avanzate come la sovrapposizione di un codice di tempo dove dovesse servire per esportazioni per lavorazioni un pochino più complesse il limitatore video che ci permette di limitare la regolazione del video la normalizzazione del volume dell'audio insomma abbiamo tantissime possibilità di controllo ma quelli più importanti sono quelli dedicati alla parte video dove abbiamo la possibilità di scegliere la larghezza e l'altezza del nostro fotogramma che in questo caso sono decisi dal preset perché noi abbiamo richiamato un preset se vogliamo andare a modificare ci basterà deselezionare questa spunta e andare a modificare quelli che sono i nostri parametri scegliere la frequenza dei fotogrammi nel mio caso sono 25 possiamo andare tranquillamente a sovracampionare il nostro file scegliere se l'immagine deve essere progressiva o interlacciata l'aspetto dei fotogrammi e scegliere di renderizzare alla profondità massima dei bit consentiti dalle nostre immagini poi abbiamo le impostazioni di codifica queste sono molto varie e possiamo decidere in base al nostro computer alla nostra macchina che utilizziamo se utilizzare un'accelerazione hardware o software ma tutte queste impostazioni variano in base alla tipologia di file che stiamo esportando ad esempio c'è un valore molto importante che è quello del bitrate che ci viene dato in base al tipo di formato che stiamo scegliendo ad esempio siamo in H.264 abbiamo la possibilità di scegliere il tipo di codifica e il quanto deve essere pesante la nostra codifica quindi il bitrate di destinazione abbiamo poi il controllo la chiave da dare se il nostro video è un video VR che stiamo editando poi abbiamo il pannello dell'audio dove abbiamo la possibilità di selezionare tutte quelle che sono le impostazioni dell'audio che verrà esportato abbiamo poi la possibilità di decidere se esportare o meno i sottotitoli nel caso in cui li avessimo creati all'interno di Premiere Pro o di autopubblicare in automatico il nostro video una volta esportato su una determinata destinazione che sia Twitter che sia Vimeo che sia un FTP che sia Facebook o quant'altro proprio sotto abbiamo poi la possibilità di scegliere di usare la massima qualità di render di usare le anteprime dove abbiamo generato delle anteprime all'interno del nostro progetto di reimportare l'esportato all'interno del nostro progetto di impostare un codice di tempo iniziale se non partiamo dallo zero possiamo scegliere di farlo partire noi dallo zero e dove è consentito di eseguire il render solo del canale alfa e in più poi abbiamo la possibilità di scegliere globalmente per tutto il progetto il tipo di interpolazione che devono avere i fotogrammi nel caso in cui abbiamo rallentato più di una clip possiamo scegliere senza dover andare per ogni clip rallentata ad impostare il tipo di campionamento e scegliere ad esempio il flusso ottico per tutte le nostre clip infine alla fine della nostra configurazione abbiamo due possibilità o cliccare sul file sul pulsante esporta e comincerà l'esportazione di Adobe Premiere Pro oppure premere sul pulsantino coda cliccando sul pulsantino coda verranno trasferite tutte le informazioni di esportazione all'interno di un altro software che è Adobe Media Encoder e grazie ad Adobe Media Encoder noi abbiamo la possibilità adesso si sta aprendo poi adesso ve lo mostrerò abbiamo la possibilità di aggiungere più file di esportazione in coda uno dietro l'altro e continuare a lavorare all'interno di Adobe Premiere Pro e poi in un secondo momento quando avremo deciso di voler terminare di lavoro possiamo lanciare la nostra coda di render e quindi renderizzare tutti i nostri lavori contemporaneamente ecco questo è Adobe Media Encoder e come vedete è stata messa all'interno della mia coda di render il mio file che ho deciso la mia timeline da esportare con le impostazioni che ho deciso mi basterà premere sul pulsantino play per far partire quello che è il render la differenza tra Adobe Media Encoder e Premiere Pro nell'esportazione è sostanzialmente che se utilizziamo l'esportazione di Adobe Premiere Pro non possiamo utilizzare il software perché dovrà codificare ed esportare il file mentre se mettiamo in coda di render con Adobe Media Encoder abbiamo la possibilità di aggiungere più file in code e lanciare una sola volta il render così lui li realizzerà tutti quanti insieme alle volte può essere necessario esportare un singolo fotogramma dalla nostra timeline beh abbiamo un tool è uno strumento molto semplice da utilizzare che ci permette di esportare un fotogramma della nostra della nostra timeline con determinate opzioni beh abbiamo proprio sotto il nostro monitor di programma abbiamo questo pulsantino qua che è il pulsantino di esporta fotogramma nel caso non lo dovesse avere basterà andare sull'editor dei pulsanti trovarlo in questo e trascinarlo nella vostra toolbar una volta posizionatoci con il cursore nel punto della timeline che vogliamo esportare ci basterà cliccare su questo pulsantino per decidere quelle che sono le impostazioni quindi il nome che assegneremo al nostro file il formato che vogliamo scegliere per l'esportazione il percorso quindi la cartella dove vogliamo che venga salvato il nostro file basterà cliccare su sfoglia per scegliere una determinata cartella e scegliere se questo file deve essere reimportato o meno all'interno del nostro progetto una volta premuto ok il nostro file nel mio caso è stato appena reimportato all'interno del mio progetto ed ho esportato un file ed ho esportato molto velocemente e facilmente un fotogramma della mia timeline quando passiamo quando passiamo all'esportazione dei nostri lavori abbiamo di norma diverse tipologie di file che vogliamo esportare ed ora vi mostrerò quello che è il mio processo che io attualmente utilizzo quando devo esportare un file master il file master è il file alla massima qualità disponibile possibile da poter mettere in archivio o utilizzare poi per essere ricodificato in qualche altra tipologia di file essendo su Mac io utilizzerò un file con un contenitore .mov mentre chi è su Windows potrà utilizzare un contenitore di tipo Avid e quella che utilizzerò è la codifica di Apple ProRes mentre un altro consiglio che posso dare a chi lavora su Windows è di utilizzare i codec DNX di Avid se non li trovate disponibili all'interno del vostro software potete scaricare dal sito di Avid i codec DNX diciamo che sono degli equivalenti del ProRes dedicati a Avid quindi vi mostro almeno quello che è il mio processo nell'esportazione di un file master io sceglierò un formato QuickTime andrò a scegliere un predefinito di norma scelgo sempre l'Apple ProRes 422 HQ naturalmente non vado a settare in questo momento dove salverò il file vado nelle impostazioni del video ed essendo tutto alla massima qualità disponibile naturalmente in automatico Adobe Premiere Pro troverà quella che è l'impostazione della mia timeline quindi sai che è un 1920x1080 che è 25 fotogrammi al secondo qua posso scegliere la profondità in bit della mia esportazione nel mio caso normalmente utilizzo gli 8 bit perché sono tutte esportazioni televisive o per il web quindi i master soltanto i master di film che andranno al cinema o su piattaforme on demand vanno esportate con un bitrate più alto ma di norma io utilizzo la profondità di 8 bit e basta perché non c'è null'altro da impostare semplicemente perché utilizzo il preset dell'Apple ProRes 422 HQ che è quello più alto in questo momento che ho a disposizione in alternativa quando ho bisogno di una qualità molto più alta posso scegliere l'Apple ProRes 4444 che è molto paragonabile a un codec loseless ossia senza perdita infatti genererà un file molto ma molto pesante perché il tipo di compressione è molto più alto infatti è possibile anche scegliere con questa tipologia di preset di esportare anche il canale alfa quindi non soltanto il canale rosso verde e blu ma anche il canale alfa quindi io normalmente utilizzo il ProRes 422 e in audio semplicemente questo codec permette l'esportazione di un codec audio non compresso quindi è esattamente quello che io di cui io necessito ed esporto il mio file questa è la metodologia con cui io esporto un file master una delle esportazioni più comune che ci troveremo a fare è quella di un'esportazione di un file dedicato al web beh di sicuro per esportare un file dedicato al web utilizzeremo un codec che è l'H264 un codec molto versatile ed è praticamente ormai diventato uno standard per il web e abbiamo un'infinità di possibilità di di personalizzazione abbiamo innanzitutto tutta una serie di preset già preimpostati anche per tutti i vari social network o come io preferisco lavorare vado a personalizzarmi quello che è il mio codec di esportazione naturalmente abbiamo tutta la prima parte dedicata al fotogramma della nostra immagine che di base viene richiamata dalla nostra sequenza di montaggio scendendo un pochino più in basso il pannello dove voglio soffermarmi di più è quello dedicato al bitrate abbiamo tre possibilità il cbr che sta per constant bitrate quindi un bitrate costante abbiamo poi il vbr che è il variable bitrate che è quello che ci permette di avere un file di dimensioni più piccole perché genera un file con un bitrate variabile ad una passata e a due passate cosa significa una passata e due passate che verrà realizzato nel primo caso un bitrate variabile quindi in base alla complessità del nostro fotogramma andremo a realizzare andrà a realizzare un bitrate dedicato e farà un sol passaggio di codifica mentre nel secondo caso ci metterà molto più tempo ma farà due passaggi di verifica per ogni fotogramma così da ottenere un risultato ancora più accurato oppure c'è la terza opzione che è quella che io preferisco per l'utilizzo dell'h264 perché il framerate variabile è sì un ottimo compromesso ma ci sono delle circostanze dove io preferisco avere un bitrate sempre costante e l'unico valore che ci va che ci viene chiesto di modificare è proprio il bitrate di destinazione cioè decidere quanto deve essere pesante il nostro bitrate quante informazioni vogliamo dare ad ogni singolo secondo per un utilizzo di un file h264 sul proprio computer di un file in hd io consiglio di utilizzare 20 megabits per secondo se si deve pubblicare invece su youtube basteranno un 15 megabits per secondo se invece si sta esportando un file in 4k in h264 quello che si consiglia è di utilizzare 40 megabits per secondo quindi queste sono le tre regole per youtube o social network possiamo utilizzare 15 per un utilizzo diciamo casalingo sul proprio computer o per la propria tv quindi con la pennetta possiamo utilizzare 20 megabits per secondo se saliamo di fotogramma quindi abbiamo un fotogramma più grande andiamo su 40 megabits per secondo naturalmente in base a questo valore Adobe Premiere Pro ci stabilirà quella che sarà una dimensione stimata del nostro file quindi possiamo anche andare a renderci conto abbassando e adalzando questo valore il nostro file su per giù che peso avrà tutte le altre impostazioni rimangono su per giù le stesse dette nella lezione dedicata alla panoramica dell'esportazione abbiamo soltanto la possibilità di scegliere il formato di codifica dell'audio se sia un MPEG o se sia una ASI io di norma utilizzo il formato ASI perché è perfettamente compatibile con qualsiasi player una delle necessità che si trova spesso ad avere è quella di dover realizzare un DCP per il cinema ossia un file che venga letto dai proiettori del cinema per ad esempio uno spot pubblicitario che abbiamo realizzato beh Dopprimer Pro ci dà la possibilità di esportare un file DCP o meglio una cartella DCP stesso dal nostro motore di esportazione andando nel nostro pannello delle impostazioni di esportazione avremo la possibilità abbiamo la possibilità di decidere di utilizzare Raptor DCP Raptor DCP è un plugin esterno di Adobe quindi non è sviluppato da Adobe stessa ma che grazie ad un accordo tra le varie aziende è disponibile in una versione base all'interno di Adobe Premiere Pro che ci permette di esportare a 24 fotogrammi al secondo o a 25 qui le impostazioni sono leggermente diverse in primis non possiamo variare la codifica del video che per un DCP è una sequenza di file in JPEG 2000 codificati in un file MXF sembra un enorme parolone ma non è assolutamente così quindi impostazioni codifica video non possiamo toccar nulla stessa cosa per la codifica audio che non è compressa l'unica scelta è decidere se deve essere un'esportazione in stereo o in 5.1 nella parte video quello che possiamo decidere è esportare a 24 fotogrammi al secondo o a 25 e le dimensioni del nostro video perché abbiamo degli standard da dover rispettare quando andiamo al cinema e non esiste il 1920x1080 ma esistono quelle che sono definite il flat il full e lo scope il flat è 1998x1080 ed è quello più rettangolare per intenderci abbiamo poi il full che è leggermente tagliato e abbiamo lo scope che è il formato 235 classico del cinema ora come vedete quando io vado a cambiare questi parametri l'immagine viene ritagliata o meglio viene scalata per riempire il mio fotogramma nel caso ad esempio del flat che è un caso molto particolare possiamo andare a decidere in questa tendina qui in alto le impostazioni e decidere di scalare per adattare quindi scalerà il lato più corto e come vedete genererà quelle che sono delle bandine a destra e sinistra mentre se andiamo a scalare per riempire lui andrà a scalare l'immagine per riempire tutto il fotogramma altra opzione sarebbe a lunga per riempire ma andrà a strecciare quella che è la nostra immagine questa cosa la notiamo molto di più se andiamo a selezionare lo scope andrà proprio a schiacciare la nostra immagine mentre scala adatta imposterà l'immagine al centro e scala per riempire andrà a tagliare sopra e sotto la nostra immagine individuati questi valori abbiamo un bitrate fisso di 250 megabits per secondo perché questo è lo standard non c'è null'altro da impostare se non il file d'uscita una volta fatto premiamo export e vediamo che cosa ci genera terminata l'esportazione vediamo che cosa è esportato ad un Premiere Pro perché è importante questo concetto a differenza delle altre esportazioni che possono essere delle sequenze d'immagine o dei file video quindi delle clip video il DCP non è altro che una cartella questa cartella alla fine avrà Adobe Premiere Pro ci aggiunge l'estensione .dcp ma essendo una cartella possiamo tranquillamente andare a cancellarla e all'interno della nostra cartella avremo una serie di file uno dedicato al video uno dedicato all'audio e una serie di file importantissimi da non toccare e neanche da rinominare tra le altre cose per la messa in play del nostro file DCP perché il DCP è un acronimo e sta per Digital Cinema Package e infatti questo è un pacchetto dedicato ai cinema digitali quello che infatti dovremmo consegnare al nostro cinema o a chi ci ha richiesto il DCP è esattamente questa cartella con tutti i suoi file all'interno così facendo abbiamo la possibilità di mettere in play il nostro DCP in una sala cinematografica a chi ci ha richiesto